il ritratto in nessun posto al mondo si ferma tanta gente come davanti alla bottega di scookintfor questa bottega conteneva infatti la più eterogenea collezione di cose strane e rare i quadri per la maggior parte erano dipinti ad olio ricoperti da vernice verde inseriti in cornici pretenziose color giallo scuro un inverno con i suoi alberi bianchi un tramonto tutto rosso simile al bagliore di un incendio un contadino fiammingo con la pipa e il braccio spezzato più simile a un gallo indiano con i polsini che a un uomo ecco gli abituali soggetti a tutto questo occorre aggiungere alcune stampe il ritratto di kozref mirza con il berretto di pelo di montone altri ritratti di chissà quali generi con il tricorno e con i nasi storti alla porta di una bottega come questa sono di solito appesi fasce di incisioni popolari su grandi fogli che testimoniano del nativo talento dell'uomo russo su uno dei fogli la zarevna miliktriscia kirbitievna su un altro la città di gerusalemme sulle cui case e chiesa era profusa senza tanti complimenti una tinta rossastra dilagante in una parte del terreno e su due contadini russi con guantoni in preghiera gli acquirenti di opere del genere di solito non sono molti ma gli spettatori in compenso una folla di certo ci trovi qualche servitore ubriacone che sbadiglia tenendo in mano i recipienti con il pranzo di trattoria per il suo signore che senza dubbio mangerà una minestra non troppo calda un soldato col cappotto il cavaliere dei robbi vecchi che vende a punta penne una ventitrice ambulante dal sobborgo di occa con una scatola piena di scarpe ciascuno si entusiasma a modo suo i contadini di solito segnano a dito i cavalieri esaminano con aria seria i ragazzi che fanno i domestici e i garzoni artigiani ridono e si scherniscono a vicenda mostrandosi le caricature i vecchi servitori in cappotti di frisia si limitano a guardare al solo scopo di ozziare un poco in qualche posto mentre le venditrici giovani donne russe accorrono distinto per ascoltare le chiacchiere della gente in un momento del genere per caso si fermò davanti alla bottega il giovane artista kartkov il vecchio cappotto e l'abito non certo elegante mostravano che è una persona devota al proprio lavoro sino all'abnegazione e non ha il tempo di prendersi cura del proprio abbigliamento sebbene lo stesso abbia pur sempre una misteriosa attrattiva sui giovani l'artista si fermò davanti alla bottega e se in un primo momento rise dentro di sé di quei quadretti mostruosi alla fine però si trovò a fare un'involontaria riflessione a chi potevano essere necessarie opere come quelle che il popolo russo ammilasse ruslan azarevich il mangione e il bevone foma e derma non gli pareva cosa da stupire gli oggetti raffigurati erano oltremodo accessibili e comprensibili per il popolo ma dove erano i compratori di quelle vecchie pitture variopinte sudice lucide di olio a chi potevano piacere quei contadini olandesi quei paesaggi rossi e turchini che rivalavano qualche pretesa d'arte ma in cui si manifestava tutta la profonda umiliazione dell'arte stessa sotto ogni apparenza si vedeva che non poteva trattarsi delle fatiche di un bambino autodidatta altrimenti nonostante l'insipido carattere caricaturale dell'insieme vi si sarebbe avvertito un certo slancio invece si vedevano solamente ottusità un'impotente e decrepita mancanza di talento che arbitrariamente si schierava nelle fine dell'arte mentre il suo posto era fra i bassi mestieri una mancanza di talento tuttavia così fedele alla propria vocazione da trasmettere all'arte il proprio carattere di mestiere sempre gli stessi colori, stessa maniera, la stessa mano addestrata e impratichita che apparteneva più a un rozzo automa che non a un essere umano Kartkov sostò a lungo davanti quei quadri sopra pensiero il padrone della bottega, un uomo grigio con il cappello di frisi e una barba non rasa almeno dalla domenica prima prese a spiegargli qualcosa ad offrire e a contrattare ancora prima di sapere che cosa fosse piaciuto o d'occorresse all'artista ecco per questi contadini e per il piccolo paesaggio pretendo un biglietto bianco che pittura! ti ferisce addirittura l'occhio! l'ho appena ricevuti dalla sala vendite la vernice non si è ancora asciugata oppure ecco un inverno prendete l'inverno 15 rubli solamente la cornice che cosa vale? guardate che inverno! a questo punto il mercante diede un leggero colpetto alla tela probabilmente per mostrare tutta la buona qualità dell'inverno ordinate di legarli insieme e di portarveli a casa dove abitate? ehi ragazzo passami dello spago aspetta caro non così in fretta disse come destandosi l'artista vedendo che lo sbrigativo mercante si era già messo sul serio a legare i quadri era venuta una certa vergogna di non prendere nulla dopo essere rimasto così a lungo nella bottega e perciò disse aspetta voglio vedere in giro se per caso non c'è qualcosa che mi vada echinantosi si mise a tirar su dal pavimento delle vecchie pitture consunte e impolverate buttate in un mucchio che evidentemente non godevano di alcuna considerazione c'erano vecchi ritratti di famiglia i cui discendenti probabilmente non esistevano più figure completamente irriconoscibili con la tela rotta cornici ormai prive della doratura insomma ogni sorta di decrepiti rifiuti l'artista si accinse a quell'esame pensando forse qualcosa si può trovare più di una volta aveva sentito raccontare che in certi casi presso i rivenditori di stampacce popolari in mezzo il bailam erano stati ritrovati quadri di grandi maestri il padrone vedendo dove gli puntava aveva abbandonato le sue premure e assunta la sua posizione abituale ed una conveniente impotenza sarà messo di nuovo davanti alla porta a invitare i passanti e a indicare con una mano la bottega qui Batiusca ecco i quadri entrate entrate sono arrivati dalla sala vendite strillava a sazietà per lo più infruttuosamente chiacchierando anche con un venditore di pezzi di stoffa che stava fermo sulla porta della sua bottega proprio di fronte a lui alla fine ricordandosi che in bottega aveva un compratore voltò alle spalle alla gente e si diresse verso l'interno allora Batiusca avete scelto qualcosa? già da qualche tempo l'artista stava immobile davanti a un ritratto in una grande cornice che una volta doveva essere stata sontuosa ma sulla quale ora luccicava appena qualche scaglia della doratura si trattava di un vecchio con la faccia color bronzo forti zigomi dall'aria scarnita i lineamenti parevano essere stati colti in un istante di contrazione febbrile ed emanavano un vigore non settentrionale su di essi era stampato un infuocato mezzogiorno l'uomo era drappeggiato in un ampio abito asiatico per quanto il ritratto fosse impolverato e danneggiato Kartkov aveva visto subito non appena era riuscito a togliere la polvere dalla faccia l'impronta dell'opera di un grande artista il ritratto sembrava incompiuto ma la potenza della pennellata era eccezionale più straordinari di tutto erano gli occhi pareva che l'artista vi avesse messo tutta la forza del suo pennello e tutta la passione della sua arte e si guardavano guardavano si sarebbe detto fuori dal ritratto quasi distruggendone l'armonia con la loro strana vivezza altre persone ne ricevevano la stessa impressione una donna che si era fermata dietro Kartkov si mise a gritare mi guarda mi guarda e indietreggiò Kartkov provò un turbamento incomprensibile e posò il ritratto a terra allora lo prendete disse il padrone e quanto lo mandò l'artista non ne voglio molto datemi tre set per tac no e cosa volete darmi una ventina di copechi disse l'artista accingendosi ad andarsene eh che razza di prezzo mi tirate fuori per venti copechi non si compra nemmeno la cornice si vede che avete l'intenzione di comprare domani signore signore venite qua e va bene datemi venti copechi prendetelo prendetelo va bene per venti copechi ma è solo per cominciare solo perché oggi siete il primo cliente così dicendo fece un gesto con la mano come per dire se così deve essere pazienza per il quadro in questo momento Kartkov si trovò del tutto inaspettatamente ad acquistare il vecchio quadro e nello stesso tempo pensò perché l'ho comprato che cosa me ne faccio ma ormai era andata tirò fuori di tasca venti copechi li diede al padrone prese il ritratto sotto il braccio e se lo portò via per strada ricordò che i venti copechi che aveva dato erano gli ultimi che possedeva a un tratto i suoi pensieri si fecero neri immediatamente la salirono un sentimento di stizza e un gran vuoto nell'anima al diavolo è davvero schifoso vivere al mondo si disse con lo stato d'animo del russo a cui le cose vanno male quasi meccanicamente si mise a camminare a passi lesti pieno di indifferenza verso tutto la luce rossa del tramonto copriva metà del cielo le case rivolte in quella direzione erano ancora illuminate dalla sua tiepida luce mentre già si accentuava il freddo azzurrastro chiarore della luna a terra cadevano leggere ombre semi trasparenti che venivano riflesse dalle case e dalle gambe dei passanti l'artista cominciò a poco a poco a guardare il cielo rischiarato da una luce diafana sottile incerte e quasi senza volerlo gli sfuggirono dalla bocca le parole che tonalità leggera e subito dopo che rabbia al diavolo e mettendo a posto il ritratto che gli si scioglieva continuamente sotto il braccio accelerò il passo stanco e tutto sudato riuscì finalmente a trascinarsi sino a casa alla quindicesima linea dell'isola vasilievski con fatica e il fiato corto si arrampicò per le scale inondate di risciacquature e costellate di tracce di gatti e di cani al suo colpo alla porta non si fu risposta il servitore non era in casa allora si appoggiò alla finestra e si dispose ad attendere con pazienza finalmente risuonarono alle sue spalle i passi di un ragazzo in camicia blu il suo galloppino modello mesticatore di colori e spazzapavimenti che subito sporcava con i suoi stessi stivali si chiamava Nikita e trascorreva tutto il tempo fuori dal portone quando lui non era in casa Nikita si sforzò a lungo nel tentativo di infilare la chiave nel buco della serratura perché non ci vedeva assolutamente nulla a causa dell'oscurità finalmente la porta si aprì Kartkov entrò nell'anticamera intollerabilmente fredda come sempre succede in casa di artisti benché loro non se ne accorgano senza dare il cappotto a Nikita passò nel suo studio una stanza quadrata grande ma bassa con le finestre gelate e ingombra ad ogni genere di cianfusaglie artistiche frammenti di braccia di gesso cornisse avvolte nella tela schizzi incominciati e abbandonati drappeggi appesi sugli studi era molto stanco gettò via il cappotto posò distrattamente fra due piccole tele il ritratto che aveva portato con sé e si buttò su un basso divanetto del quale non si poteva dire che fosse foderato di pelle perché la fila dei chiodini di rame che una volta la fissava da tempo se ne stava per conto suo anche la pelle rimasta attaccata ai chiodini si era rigonfiata per conto suo tanto che Nikita si ficcava sotto i calzini neri camicia e tutta la biancheria sporca sedutosi e poi sdraiatosi per quanto ci si poteva sdraiare su quello stretto divano e gli chiese una candela di candele non ce n'è disse Nikita come non ce n'è da ieri non ce n'è disse Nikita allora l'artista si ricordò che effettivamente anche la sera prima già mancavano le candele si mise l'animo in pace e tacque si fece svestire e indossò il suo pigiama abbondantemente logoro ancora una cosa disse Nikita è venuto il padrone di casa è venuto per soldi lo so disse l'artista con un gesto vago della mano ma non è venuto solo disse Nikita e con chi non lo so con chi credo una guardia e perché la guardia non so il perché ha detto però che l'alloggio non è stato pagato e che vogliono ora io non so cosa vogliono ha detto se non vuole pagare se ne vada allora dall'alloggio torneranno tutte e due domani che tornino pure disse con mestizia Kartkov e fu invaso da una profonda depressione Kartkov era un artista di talento che prometteva molto a tratti a lampi il suo pennello rivelava spirito d'osservazione acutezza e un vivo slancio verso la natura vada mio caro gli aveva detto più di una volta al professore hai del talento sarebbe un peccato che tu lo rovinassi ma sei impaziente se qualcosa ti attrae e ti piace tutto il resto non conta più nulla nemmeno vuoi guardarlo sta attento a non diventare un pittore alla moda già adesso comincia a far gridare troppo il colore il tuo disegno non rigoroso certe volte è persino debole la linea non si vede ti metti a correre dietro alla luce secondo la moda a ciò che colpisce di primo acchito sta attento a non cadere nel genere inglese vada il mondo comincia ad attirarti ti vedo addosso un fazzoletto da elegantone il cappello con il nastro si si lascia andare a dipingere quadretti alla moda ritrattini per far soldi ed il talento anziché svilupparsi viene meno pazienta pazienta rifletti su ogni lavoro lascia stare l'eleganza e che gli altri facciano pure quattrini ciò che hai di tuo non lo perderai mai il professore aveva solo in parte ragione effettivamente certe volte al nostro maestro veniva voglia di far baldoria di sfoggiare eleganza insomma dimostrare in qualche modo la sua giovinezza ma nonostante questo sapeva anche dominarsi a volte prendendo in mano il pennello riusciva a dimenticare tutto e si staccava dalla tela come da un meraviglioso sogno interrotto a metà il suo gusto si sviluppava in modo sensibile non comprendeva ancora tutta la profondità di raffaello ma era già attratto dal pennello rapido e arioso di guido reni si soffermava sui ritratti di tiziano si entusiasmava ai fiamminghi ancora l'aspetto annerito che avvolgeva i vecchi quadri gli faceva da schermo ma già intuiva in essi qualcosa sebbene intimamente non fosse d'accordo che i maestri antichi fossero ormai lontani da noi gli sembrava che il diciannovesmo secolo in qualcosa li avesse notevolmente superati che l'imitazione della natura si fosse fatta ora in qualche misura più evidente più viva più vicina insomma a questo proposito pensava come la pensavano i giovani che hanno già raggiunto qualcosa e lo avvertono nella loro orgogliosa coscienza talvolta si indispettiva quando vedeva che un pittore di paesaggio francese o tedesco in certi casi neanche pittore per vocazione ma solo dotato di una maniera divenuta abitudine suscitava con la destrezza del suo pennello e la vivacità dei colori un gran chiasso e in un momento metteva da parte un grosso capitale ma era più facile per lui tutto preso dal suo lavoro dimenticarsi di bere di mangiare del mondo intero se sulla fine non era più possibile ignorare la necessità quando non era più possibile comprare pennelli e colori e l'ossessionante padrone di casa andava anche dieci volte al giorno a chiedere l'affitto dell'alloggio nella sua immaginazione affamata si digignava inevitabilmente la figura del pittore che si arricchiva gli balenava persino un pensiero che spesso balena nella testa dei russi abbandonare decisamente tutto e buttarsi allo sbaraglio in quel momento era in uno stato d'animo del genere sì pazienza pazienza mormorò con dispetto c'è pure un limite anche alla pazienza in fin dei conti pazienza con quali soldi pranzerò domani nessuno mi fa prestiti e se portassi a vendere tutti i miei quadri e i miei disegni per tutti insieme mi darebbero venti copechi mi sono serviti certo questo lo capisco nessuno è stato fatto per caso ognuno di essi mi ha insegnato qualcosa ma che vantaggio ne ho studi tentativi e saranno sempre studi tentativi e non ci sarà una fine e chi li comprerà dato che nessuno conosce il mio nome a chi interessano i miei disegni che si ispirano agli antichi il mio incompiuto amore di psiche la prospettiva della mia stanza o il ritratto del mio Nikita benché sia davvero migliore dei ritratti di un qualsiasi pittore alla moda dunque perché mi tormento e seguito a fare esercizi come uno scolaretto quando potrei brillare non meno degli altri ed essere pieno di soldi come loro detto questo d'improvviso l'artista si mise a tremare e impallidì protendendosi dalla terra posata a terra lo fissava una faccia febbrilmente contratta due occhi terribili erano posati proprio su di lui pronti a divorarlo sulle labbra era dipinto l'ordine minaccioso di tacere spaventato fu sul punto di chiamare Nikita che in anticamera aveva già cominciato a russare bellicosamente ma poi di colpo si fermò e scoppiò a ridere la sensazione di terrore si dileguò istantaneamente si trattava del ritratto che aveva acquistato e di cui si era completamente dimenticato la luce della luna entrata nella stanza era caduta sul ritratto e gli aveva conferito una strana vivezza Tartkov si accinse ad esaminarlo e a pulirlo inzuppò nell'acqua una spugna la passò varie volte sulla tela e ne tolse quasi tutta la polvere e il sudiciume che vi si erano depositati sopra lo appese davanti a sé alla parete e non poteva fare a meno di meravigliarsi ancora di quell'opera straordinaria il volto sembrava vivo e gli occhi lo guardavano in modo tale che alla fine egli trasalì e indietreggiando mormorò con voce stupita mi guarda mi guarda con occhi umani d'improvviso gli venne in mente una storia udita molto tempo prima dal suo professore a proposito di un ritratto del celebre Leonardo da Vinci ritratto a cui il grande maestro aveva lavorato per anni e continuava a considerare non finito mentre secondo le parole del Vasari era già da tutti riconosciuto come la migliore e la più completa opera d'arte più belli di tutto il resto erano gli occhi che suscitarono la meraviglia dei contemporanei persino le più sottili vene quelle appena visibili non erano state trascurate ma rese sulla tela comunque nel ritratto che adesso stava davanti a lui c'era qualcosa di strano non era più arte era qualcosa che pareva distruggere l'armonia del ritratto erano occhi vivi occhi umani sembrava fossero stati presi da un uomo vivente e messi lì non c'era nemmeno più il grande godimento che invade l'anima quando si guarda l'opera di un artista per quanto orribile sia il soggetto scelto no lì c'era come una sensazione morbosa opprimente cos'è questo si domandò involontariamente l'artista eppure è natura natura vivente perché dunque questa strana sensazione sgradevole forse che un'imitazione verista troppo letterale della natura sia già una colpa un grido stridente disarmonico o forse se tratti un soggetto freddamente senza sentimento senza partecipazione è naturale che esso si presenti nella sua realtà più orribile non illuminata dalla luce dell'irraggiungibile pensiero che è nascosto in tutte le cose si presenti come la realtà che scoprirebbe chi volendo carpire il segreto di una bellissima figura umana si armasse ad un coltello la sventrasse e scoprisse un essere ripugnante perché anche la natura più semplice più infima appare in un artista in una certa luce e non genera alcuna impressione di disgusto al contrario sembra di provare di fronte ad essa godimento e poi tutto scorre e si muove intorno a noi in modo più armonico e regolare e perché invece la stessa natura in un altro artista sembra bassa sudicia sebbene anche egli sia stato altrettanto fedele alla natura perché non c'è non c'è quel qualcosa che illumina è come per un panorama per quanto stupendo gli manca sempre qualcosa se in cielo non c'è il sole si avvicinò nuovamente al ritratto per esaminare quegli occhi sorprendenti e notò allora con orrore che essi sembravano continuare a guardare proprio lui non si trattava più di una copia della natura era strana vivezza che potrebbe illuminare la faccia di un cadavere uscito dalla tomba fosse la luce della luna che reca con sé il delirio del sogno e a tutto conferisce altre sembianze opposte a quelle primitive del giorno o fosse un'altra causa fatto è che ad un tratto senza sapere perché egli aveva cominciato a provare terrore di restare solo nella stanza si allontanò in silenzio dal ritratto voltandosi dall'altra parte e sforzandosi di non guardarlo ma intanto senza volerlo sbirciava di traverso aveva paura persino di camminare per la stanza perché aveva l'impressione che qualcuno si mettesse a camminargli dietro e quindi di continuo timorosamente si voltava a guardare non era mai stato un pavido ma la sua immaginazione e i suoi nervi erano delicati e quella sera non sapeva spiegarsi nemmeno lui il suo timore si sedette in un angolo ma anche da quel punto gli parve che da dietro le spalle qualcuno gli puntasse gli occhi addosso neanche il russare di Nikita che si udiva dall'anticamera riusciva a scacciare il suo terrore finalmente si alzò impaurito senza alzare gli occhi si ritirò dietro il pavimento e si mise a letto attraverso le fessure del pavimento vedeva la sua stanza illuminata dalla luna e vedeva anche il ritratto appeso proprio di fronte sul muro quegli occhi si fissarono su di lui in modo ancora più terribile più carico di significato e parve che volessero guardarlo per sempre angosciato si decise ad alzarsi dal letto afferrò il lenzuolo e accostatosi al ritratto ve lo avvolse fatto questo si mise a letto più tranquillo cominciò a pensare alla povertà e al misero destino degli artisti all'arduo cammino che lo metteva nel mondo e intanto i suoi occhi involontariamente guardavano attraverso una fessura del paravento il ritratto avvolto del lenzuolo lo scintillio della luna rafforzava il biancore del lenzuolo ed egli ebbe l'impressione che quegli occhi terribili avessero cominciato a brillare persino attraverso il lenzuolo con terrore guardò più fissamente come se volesse sincerarsi e si trattava di un'assurdità ma ecco che davvero ecco che vede vede chiaramente che il lenzuolo non c'è più che il ritratto è scoperto e oltrepassando tutto ciò che c'è intorno guarda dritto verso di lui guarda proprio dentro di lui e si gela il cuore e vede il vecchio si è mosso e ad un tratto si è appoggiato alla cornice con entrambe le mani infine si solleva sulle braccia allunga fuori le gambe e si stacca dalla cornice attraverso le fessure del paravento non si vede ormai che la cornice è vuota nella camera rintrona un rumore di passi che si fa sempre più vicino più vicino al paravento il cuore dell'artista cominciò a battere furiosamente con il respiro che gli mancava per il terrore aspettava che da un momento all'altro il vecchio si affacciasse a guardarlo da dietro il paravento avvenne proprio questo si affacciò da dietro il paravento e lo fissò con quel viso bronzio muovendo i grandi occhi kartkov fece lo sforzo di gridare ma sentì di non avere voce si sforzò di muoversi di fare un movimento qualsiasi ma le sue membra restarono ferme con la bocca spanancata e il respiro monzo fissava quel terribile fantasma alto avvolto da una specie d'ampia veste asiatica aspettando di vedere che cosa avrebbe fatto il vecchio si sedette quasi ai suoi piedi e tirò fuori qualcosa di sotto le pieghe del suo ampio abito era un sacchetto lo slegò e afferratolo per le due estremità lo scosse con un rumore sordo caddero a terra dei rotoli piuttosto pesanti simili a lunghe colonnine ognuno era avvolto in una carta azzurra e su ognuno stava scritto mille ducati con le sue lunghe mani assute il vecchio cominciò a svolgere i rotoli l'oro scintillò per quanto forti fossero la sensazione d'angoscia e il folle terrore dell'artista egli si concentrò tutto sull'oro che usciva dalle mani assute e scintillava tintinnava con un suono squillante e poi di nuovo s'avvolgeva in rotolo a questo punto notò un involto che era arrotolato più lontano dagli altri proprio accanto a uno dei piedi del letto vicino al capezzale afferrò quasi convulsamente e pieno di terrore sperò che il vecchio non se ne fosse accorto il vecchio pareva molto occupato radunò tutti i suoi involti li rimise nel sacco e senza nemmeno dare un'occhiata a Kartkov scomparve dietro il paravento il cuore di Kartkov batte forte quando egli sentì risuonare nella stanza il fruscio dei passi che s'allontanavano strinse con più forza l'involto nella mano tremando in tutto il corpo e a un tratto sentì che i passi si avvicinavano di nuovo al paravento evidentemente il vecchio si era accorto che mancava un rotolo eccolo di nuovo lo fissava da dietro il paravento pieno di disperazione Kartkov strinse con tutta l'energia che aveva il rotolo nella mano si sforzò di muoversi gettò un grido e si svegliò era coperto da un sudore freddo sentiva nel petto un'oppressione come se stesse per emettere l'ultimo respiro possibile che sia stato un sogno disse afferrandosi la testa con tutte e due le mani la tremenda vivezza della visione non somigliava ad un sogno da sveglio aveva visto il vecchio ritirarsi dentro la cornise e gli era persino apparsa una falda dell'ampia veste la sua mano osservava come un istante prima il senso preciso di qualcosa di pesante la luce della luna rischiarava la stanza facendo emergere dagli angoli bui là una tela con una mano di gesso o stivali sporchi a questo punto si rese conto che non si trovava a letto ma era in piedi davanti al ritratto come fosse arrivato sin lì questo non riusciva assolutamente a capirlo ancor più lo stupiva il fatto che il ritratto fosse scoperto e su di esso non vi fosse più il lenzuolo karkov fissò il quadro con immobile terrore e vide quei viventi occhi umani conficcarsi dritti nei suoi un freddo sudore gli coprì il viso avrebbe voluto allontanarsi ma sentiva che le sue gambe erano come inchiodate al pavimento e allora vide che non era più un sogno che i lineamenti del vecchio si muovevano e le sue labbra cominciavano a protendersi verso di lui come se volesse succhiarlo con un urlo di disperazione fece un balzo indietro e si destò possibile che anche questo sia stato un sogno con il cuore che gli batteva tanto da schiantarsi tastò con le mani intorno a sé sì era a letto ed esattamente nella stessa posizione in cui si era addormentato davanti a lui il paravento la luce della luna riempiva la stanza attraverso la fessura del pavimento si vedeva il ritratto ben coperto dal lenzuolo come lui stesso l'aveva avvolto dunque era stato un sogno ma la sua mano contratta provava ancora la sensazione di stringere qualcosa il battito del cuore era violento pauroso il peso sul petto insopportabile punto gli occhi sulla fessura e guardò attentamente il lenzuolo ed ecco vide chiaramente che il lenzuolo cominciava ad aprirsi come se sotto di esso delle braccia si agitassero e si sforzassero di allontanarlo signore dio ma che cosa succede gridò egli facendosi disperatamente il segno della croce e si svegliò e dunque anche questo era stato un sogno saltò giù dal letto fuori di sé senza sapere spiegare cosa gli stesse accadendo se fosse l'oppressione di un incubo o di un fantasma della casa il delirio della febbre o uno spettro vivo sforzandosi di calmare in qualche modo l'agitazione dello spirito e il sangue intumulto che pulsava con un ritmo frenetico in tutte le sue vene si avvicinò alla finestra e aprì l'imposta il vento freddo e profumato lo rianimò la luce della luna si posava ancora sui tetti e sui muri bianchi delle case benché grandi nubi avessero cominciato a passare più frequenti nel cielo tutto era il silenzio da lontano giungeva il tintinio della carrozza di un vetturino che dormiva in qualche invisibile vicolo in attesa di un cliente ritardatario sporgendo la testa dalla finestra guardò a lungo nel cielo si avvertivano già i segni dell'alba vicina sentì infine che la sonnorenza lo prendeva chiuse l'imposta si allontanò dalla finestra si buttò sul letto e ben presto sprofondò come morto nel sonno si destò molto più tardi e sentì una sensazione spiacevole come se avesse respirato a lungo aria malsana e ne fosse quasi asfissiato la testa gli doleva nella camera c'era una luce fioca una sgradevole umidità era diffusa nell'aria e filtrava attraverso le fessure delle finestre le pareti erano ricoperte di quadri e di tele preparate rannuvolato scontento come un gallo bagnato si sedette sul suo divano rotto non sapendo nemmeno cosa mettersi a fare e rammentò tutto il sogno man mano che lo ricordava gli si presentava all'immaginazione come qualcosa di penosamente vivo così che cominciò persino a dubitare se si fosse trattato di un sogno o di un semplice delirio o se non fosse stato qualcosa d'altro magari un'apparizione tolto il lenzuolo esaminò alla luce del giorno il terribile ritratto gli occhi sì colpivano per la loro insolita vivezza ma egli non vi trovò nulla di particolarmente pauroso soltanto in un certo modo gli lasciavano nell'anima una sorta di impressione inspiegabile sgradevole però magrado tutto non riusciva a convincersi che si fosse trattato ad un sogno gli pareva che in mezzo al sogno ci fosse qualcos'altro una specie di spaventoso frammento di realtà gli pareva che persino nello sguardo e nell'espressione del vecchio qualcosa non so come rivelasse che egli era stato da lui quella notte la sua mano osservava l'impressione di qualcosa di pesante che qualcuno gli aveva strappato via non più di un minuto prima gli pareva che se solo avesse tenuto un po' più forte il rotolo esso gli sarebbe rimasto in mano anche dopo il risveglio dio mio avere anche soltanto una parte di quei soldi disse dopo un profondo sospiro e nella sua immaginazione cominciarono a riversarsi dal sacco tutti i rotoli su cui aveva visto la scritta seducente mille ducati i rotoli si aprivano loro scintillava poi si riavvolgevano e lui sedeva gli occhi immobili e insensati fissi nel vuoto incapace di distaccarsi da quella vista come un bambino che sta seduto di fronte a un dolce e inghiottendo saliva vede che altri se lo mangiano finalmente alla porta gli suonò un colpo che lo costrinse a tornare sgradevolmente in sé entrò il padrone di casa con il commissario del quartiere la cui comparsa come noto è per la piccola gente ancora più spiacevole di quanto sia per i ricchi la faccia di un questuante il padrone dell'appartamento in cui abitava Kartkov era del genere di tutti i proprietari di case situate nella quindicesima linea dell'isola vasilievski o nel quartiere petroburski o nella parte più remota del quartiere kolomna un essere come in russia ce ne sono in quantità e il cui carattere è tanto difficile da definire quanto il colore di una giacca troppo usata nella sua giovinezza era stato un urlante capitano poi aveva svolto anche funzioni civili era un maestro nel fustigare un uomo accorto ed un elegantone in definitiva uno stupido ma in vecchiaia tutte queste particolarità si erano fuse in un'opaca indeterminatezza vedovo ormai in pensione aveva perso ogni pretesa d'eleganza non si vantava non si dava arie gli piaceva semplicemente bere il tè chiacchierando ad ogni sciocchezza passeggiava per la stanza rimetteva a posto il mozzicone della candela di sego accuratamente allo scadere ad ogni mese si faceva vedere dai suoi inquilini per intascare l'affitto usciva in strada con la chiave in mano per guardare il tetto della sua casa aveva cacciato varie volte il portiere dal suo covo dove si nascondeva per dormire insomma era un tipo di pensionato a cui dopo tutta una vita sregolata e gli scossoni delle carrozze di posta restavano solamente abitudini meschine degnatevi voi stesso di vedere Varuk Kuzmik disse il padrone rivolgendosi al commissario del quartiere allargando le braccia non mi paga l'alloggio non paga che posso farci se non ho soldi aspettate e pagherò io carissimo non posso aspettare disse il padrone furioso facendo un gesto con la chiave che teneva in mano da me ci vive il colonnello Potogonkin ci vive già da sette anni Anna Petrovna Buchmisterov affitta pure la rimessa e la stall due stallaggi e ha tre persone di servizio ecco che inquilini ho io io per dirvela sinceramente non ho una stanza dove non si paghi affitto degnatevi di pagare immediatamente oppure ad andarvene a spasso già dato che così è stabilito vedete di pagare disse il commissario del quartiere scuotendo leggermente la testa e posando un dito su un bottone della sua uniforme e con cosa pago è una parola attualmente non ho neppure un centesimo in tal caso potreste soddisfare Ivan Petrovich con i prodotti della vostra professione disse il commissario forse lui accetta di prendere dei quadri no Batushka per i quadri tante grazie fossero almeno dei quadri con un contenuto virtuoso da poter appendere alle pareti magari un generale con una decorazione o un ritratto del principe Kuduzov no lui si mette a disegnare un contadino un contadino in camiciotto il servitore che gli mescola i colori doveva fare proprio il ritratto di quel maiale io gli torco il collo perché mi ha strappato tutti i chiodi dai chiavistelli farabutto ecco guardate che soggetti disegna la stanza almeno avesse scelto la camera bella in ordine era settata no ecco come l'ha disegnata con tutte le cianfusaglie e la sporcizia che c'è intorno guardate come mi ha insudiciato tutta la stanza segnatevi voi stesso di constatare ma da me vivono inquilini già da sette anni colonnelli la bukmisterova Anna Petrovna no ve lo dico io non c'è inquilino peggiore di un pittore vive come un porco davvero come un pagano il povero Kartkov stava ad ascoltare con rassegnazione nel frattempo il commissario del quartiere si era messo ad esaminare i quadri e i disegni pareva avere un'anima più ricettiva di quella del padrone persino non insensibile all'arte eh disse puntando il dito su una tela dove era raffigurata una donna nuda un soggetto direi giocoso e perché qui è così scuro si rimpinzava di tabacco forse è un'ombra rispose severamente Kartkov senza rivolgergli lo sguardo beh si poteva mettere in qualche altro posto perché sotto il naso è un po' troppo in vista disse il commissario e questo ritratto di chi è? proseguì avvicinandosi al ritratto del vecchio questo poi è proprio spaventoso chissà se è stato davvero così terribile accidenti sembra proprio che guardi chiarazza di capitante impesta a chi l'avete fatto? a questo a un disse Kartkov ma non terminò la frase si è di uno scricchiolio evidentemente il commissario a causa delle sue rudi mani poliziesche aveva stretto con troppa forza la cornice del ritratto le assicelle laterali si ruppero una di esse cadde sul pavimento e insieme ad essa cadde con un pesante tintinnio un rotolo di carta blu a Kartkov balzò subito agli occhi la scritta mille Ducati come un forsennato si precipitò a raccattare il rotolo la ferrò e lo strinse febbrilmente nella mano che si abbassò per il peso a quanto pare sono soldi che hanno fatto quel tintinnio disse il commissario del quartiere che aveva udito il rumore ma non aveva fatto in tempo a vedere di che si trattasse per la rapidità con cui Kartkov si era precipitato a raccattare e a voi che importa sapere cosa sono importa per il fatto che adesso voi dovete pagare il padrone per l'alloggio che avete i soldi ma non volete pagare ecco com'è d'accordo pagherò oggi bene e perché non avete voluto pagarlo prima causando fastidio al padrone e mettendo in allarme anche la polizia perché non volevo toccare questi soldi questa sera gli pagherò tutto e me ne andrò dall'alloggio domani stesso perché non voglio restare presso un simile padrone orsù Ivan Ivanovich vi pagherà disse il commissario rivolgendosi al padrone ma se stasera stessa non dovreste essere soddisfatto come si deve allora signor pittore ci scuserete detto questo si mise il suo tricorno e uscì dal vestibolo dietro di lui uscì il padrone con la testa bassa e almeno sembrava con l'aria alquanto meditabonda grazie a dio che il diavolo si riporti disse Kartkov non appena ho di chiudersi la porta dell'anticamera gli hai da un'ucchiata in anticamera mandò via Nikita per qualche faccenda in modo di essere completamente solo chiuse alle sue spalle la porta e ritornato nella sua stanza con il cuore intumulto si accinse a svolgere il rotolo era pieno di ducati tutti nuovi dal primo all'ultimo brillanti come il fuoco quasi impazzito sedette davanti al mucchietto d'oro chiedendosi ancora se tutto non fosse un sogno nell'involto ce n'erano esattamente mille e avevano lo stesso aspetto di come li aveva sognati per alcuni minuti li contò li esaminò e non riusciva ancora a tornare in sé nella sua immaginazione riemersero a un tratto tutte le storie di tesori di scrigni con cassettini segreti lasciati dagli avi per i loro nipoti in miseria nella ferma convinzione della loro futura situazione fallimentare pensava forse anche adesso qualche nonnino avrà l'idea di lasciare al suo nipote un regalo nascondendolo nella cornice di un ritratto di famiglia pieno di romantico delirio si mise persino a pensare se non ci fosse qualche misterioso nesso con il suo destino se l'esistenza del ritratto non si legasse con la sua esistenza e lo stesso acquisto non fosse già una sorta di predestinazione esaminò con curiosità la cornice del ritratto in un fianco era stato intagliato un incavo nascosto da una siccella in modo così abile e invisibile che se la mano robusta del commissario del quartiere non avesse provocato la rottura i ducati se ne sarebbero rimasti tranquilli in quel posto fino alla fine dei secoli esaminando il ritratto si meravigliò di nuovo per la perfezione dell'opera per la straordinaria fattura degli occhi non gli sembravano più così terribili eppure ogni volta che li guardava gli restava nell'anima senza che lo volesse una sensazione spiacevole bene disse a se stesso chiunque tu fossi nonnino io ti manderò sotto vetro e ti farò una cornice d'oro a questo punto la sua mano si appoggiò sul mucchio d'oro che gli stava d'innanzi e a questo contatto il cuore gli batte con forza cosa farne pensò fissandovi sopra gli occhi adesso sono tranquillo almeno per tre anni posso chiudermi in una stanza a lavorare ce n'è per i colori per il mangiare per il tè per il mantenimento per l'alloggio nessun'ora verrà più a disturbarmi e a seccarmi mi comprerò un ottimo manichino ordinerò un busto di gesso modellerò dei piedi mi metterò qui una venere mi comprerò le riproduzioni dei principali quadri e se lavorerò tre anni per me stesso senza aver fretta non per vendere supererò tutti e potrò diventare un grande artista così parlava secondo quanto gli suggeriva la ragione ma dentro di lui risuonava un'altra voce più forte e più chiara e quando diede ancora una volta un'occhiata all'oro ecco che in lui cominciarono a far sentire la loro voce i ventidue anni e la giovinezza adesso era in suo potere tutto ciò a cui sinora aveva guardato con occhi pieni di invidia che aveva ammirato da lontano inghiottendo saliva come gli batté il cuore indossare un frac alla moda mangiare a volontà dopo lunghi digiuni prendere in affitto un appartamento di lusso andare subito a teatro in pasticceria e tutto il resto eccolo già in strada prima di tutto andò da un sarto si rivestì da capo a piedi e come un bambino non si stancava di ammirarsi comprò dei profumi delle pomate senza contrattare prese in affitto il primo sontuoso appartamento che gli capitò sulla prospettiva Nielski con specchi e vetri intatti in un negozio comprò un costoso occhialino in un altro sempre con grande disinvoltura un mucchio di cravate d'ogni sorta più di quante gliene occorressero da un barbiere si fece fare i riccioli per due volte fece il giro della città in carrozza senza alcun motivo si rimpinzò di dolciumi in una pasticceria e poi andò in un ristorante francese del quale fino allora aveva sentito parlare in modo non meno vago che dell'impero cinese pranzò dandosi delle arie gettando sguardi sdegnosi verso gli altri e aggiustandosi di continuo ai riccioli davanti allo specchio beve una bottiglia di champagne anche di questo fino allora ne sapeva solo per sentito dire uscì in strada vivace pimpante secondo il detto russo un vero diavolaccio prese a camminare sul marciapiede come un galletto puntando su tutti il suo occhialino sul ponte vide il suo professore e scattaiolò baldanzosamente davanti a lui come se non l'avesse notato affatto tanto che il professore allibito rimase per un bel pezzo a guardarlo con la faccia a punto interrogativo tutti gli oggetti e quanto possedeva cavalletto tela quadri furono trasportati quella sera stessa nell'appartamento sontuoso dispose quanto aveva di meglio nei punti in vista gettò in un angolo le cose peggiori e si mise a passeggiare per le stupende stanze sbirciandosi continuamente nello specchio nella sua anima nacque il desiderio invincibile di afferrare subito la gloria per la coda e dimostrarsi al mondo la gli pareva di sentir gridare kartkov kartkov avete visto il quadro di kartkov che pennello veloce a quel kartkov che genio quel kartkov camminava per la stanza in uno stato d'esaltazione sentendosi trasportare chissà dove il giorno seguente prese una decina di ducati si diresse dal direttore di un giornale di larga diffusione chiedendo una disinteressata collaborazione fu accolto cordialmente dal giornalista che subito lo chiamò riveritissimo gli strinse tutte e due le mani gli domandò dettagliatamente nome patronimico indirizzo e il giorno dopo apparve sul giornale subito dopo la notizia di certe candele di sego di nuova invenzione un articolo del seguente titolo le straordinarie doti di kartkov ci affrettiamo a far cosa gradita agli abitanti istruiti della capitale informandoli di una scoperta che possiamo dire è meravigliosa sotto tutti gli aspetti tutti sanno che da noi esistono meravigliose fisionomie e meravigliosi volti ma finora non c'era il mezzo di riportarli sulla tela e al fine di trasmetterli alla posterità adesso questa lacuna è stata colmata si è trovato un artista che possiede quanto necessario ora una bella donna può essere sicura ad essere riprodotta in tutta la grazia della propria vetustà aerea leggera incantevole lezzadra simile alle farfalle che volteggiano fra i fiori di primavera il riverito padre di famiglia si vedrà circondato dai suoi cari un mercante un guerriero un cittadino un uomo di stato ciascuno col nuovo zelo continuerà ad essere vivo nella sua opera affrettatevi affrettatevi accorrete dal passeggio sia che siate in strada per andare da un amico o da una cucina o in un negozio alla moda affrettatevi dovunque vi troviate lo stupendo studio dell'artista lo spettiva numero tale è tutto tapezzato di ritratti usciti dal suo pennello degno dei Van Dyck e dei Tiziano non si sa di che cosa più stupirsi se della fedeltà o della somiglianza agli originali o della straordinaria freschezza del pennello lode a te artista tu hai astratto il biglietto vincente della lotteria vivat Andrei Petrovic il giornalista come si vede amava la familiarità copri di gloria te stesso e noi sapremo apprezzarti l'affluenza generale e insieme ad essa il denaro benché alcuni della nostra confraternita giornalistica parlino male di esso saranno la tua ricompensa l'artista lesse quest'articolo con segreto piacere la sua faccia era raggiante di lui dunque si parlava sulla stampa questa era una novità lesse e rilesse svariate volte quelle righe il paragone con Van Dyck e con Tiziano lo lusingò la frase viva Andrei Petrovic gli piacque anch'essa moltissimo sulla stampa lo chiamavano per nome e patronimico un onore che finora gli era completamente sconosciuto cominciò a camminare a passi rapidi per la stanza scompigliandosi i capelli sedendosi ora su una seggiola poi balzando su e sedendosi sul divano immaginando continuamente come avrebbe ricevuto i visitatori e le visitatrici agitato si avvicinava ad una tela e vi tracciava un'ardita pennellata cercando di conferire un movimento aggraziato alla mano il giorno dopo suonò il campanello della porta e gli corse ad aprire era una signora accompagnata da un lacchè con un cappotto di pellizza e insieme con la signora una giovane fanciulla diciottenne sua figlia voi siete messie katkov disse la signora l'artista si inchinò di voi scrivono moltissimo i vostri ritratti si dice sono la perfezione stessa detto questo la signora portò l'occhialino al naso e corse a esaminare rapidamente le pareti sulle quali però non c'era nulla ma dove sono i vostri ritratti mi hanno portati via disse l'artista confondendosi un poco ho traslocato appena adesso in quest'appartamento così sono ancora in viaggio e non sono ancora arrivati eravate in italia disse la signora puntando l'occhialino su di lui dato che non aveva altro da esaminare no non ci sono stato ma volevo andarsi insomma per il momento ho rimandato ecco una poltrona sarete stanca grazie sono rimasta a lungo seduta in carrozza ah ecco finalmente vedo un vostro lavoro disse la signora correndo verso la parete di fronte e puntando l'occhialino sui suoi studi programmi prospettive e ritratti che stavano sul pavimento c'è charmant lise lise venissi un interno nel gusto di tenier vedi disordine disordine un tavolo e su di esso un busto una mano una tavolozza ecco la polvere vedi come è disegnata la polvere c'è charmant ed ecco su quell'altra tela una donna che si lava la faccia quella jolie figure ah un contadinello lise lise un contadinello in camicia russa guarda un contadinello dunque voi non fate solo ritratti oh queste sono sciocchezze così per gioco sono studi dite che opinioni avete dei ritrattisti d'oggi non è vero che oggi non ne esistono più come tiziano niente forza nel colore non c'è più nulla che peccato che io non sappia esprimervi in russo quel che penso la signora era un appassionata di pittura e aveva fatto il giro di tutte le gallerie dell'italia con il suo occhialino e tuttavia messie no come dipinge pennello straordinario io trovo che c'è persino più espressione nei suoi visi che in quelli di tiziano voi non conoscete messie nostra lise gli mostrerai il tuo album sapete siamo venute perché voi cominciate immediatamente il suo ritratto certo posso cominciare subito e in un istante avvicinò il cavalletto con una tela già pronta prese in mano la tavolozza fissò lo sguardo nel volto pallido della figlia se fosse stato un conoscitore della natura umana vi avrebbe letto a prima vista il nascere di una passione infantile per i balli la noia per la lunghezza del tempo prima di pranzo e dopo il pranzo il desiderio di correre alla passeggiata con un abito nuovo le tracce pesanti di un'applicazione alle varie arti che la lasciava del tutto fredda ma era suggerita dalla madre per elevare l'anima e i sentimenti invece in quel tenero visetto l'artista vide soltanto la trasparenza di porcellana dell'incarnato un lieve affascinante languore il sottile collo luminoso e l'aristocratica sottigliezza della vita già in anticipo si preparava a trionfare a mostrare come fosse delicato e brillante il suo pennello che finora aveva avuto a che fare solo con i lineamenti duri di rozzi modelli con i severi antichi e con le copie dei maestri classici già si immaginava come gli sarebbe riuscito quel volto delicato sapete disse la signora con un'espressione del volto quasi commovente vorrei adesso lei ha quest'abito lo confesso vorrei che adesso non indossasse proprio questo che conosciamo troppo bene vorrei che fosse vestita in modo semplice e sedesse all'ombra degli alberi sullo sfondo dei campi che ci fosse un greggio in lontananza oppure un bosco che non avesse l'aria di stare andando da qualche parte come a un ballo a una serata brillante i nostri balli lo riconosco uccidono in tal modo l'anima in tal modo mortificano ogni residuo di sentimento di semplicità si vorrebbe più semplicità Karskov si mise all'opera fece sedere la signorina stabilimentalmente cosa dovesse fare mosse nell'aria il pennello fissando nella sua mente i punti socchiuse un occhio indietreggiò guardò da lontano e nello spazio di un'ora incominciò e terminò il primo abbozzo soddisfatto si mise a dipingere il lavoro lo ispirava aveva dimenticato tutto scordato persino di essere in presenza di dame aristocratiche esibendo ogni tanto certi modi da pittore pronunciando ad alta voce vari suoni talvolta canterellando come accade a un artista immerso con tutta l'anima nel suo lavoro senza nessuna cerimonia solo con un movimento del pennello indicava alla modella dove dovesse sollevare il capo sinché la fanciulla cominciò ad agitarsi e a dare segni di stanchezza basta per la prima volta basta disse la signora ancora un poco disse l'artista dimentico di tutto no basta tre ore disse la signora straendo un piccolo orologio appeso a una catenella d'oro alla cintura e aggiunse con un gridolino come tardi solo un momentino ancora disse Kartkov con la voce ingenua e supplichevole di un bambino la signora non era affatto disposta con piacere alle sue esigenze artistiche ma promise di ritornare più a lungo un'altra volta però è seccante pensò fra sé Kartkov però appena sciolta la mano si ricordò che nessuno lo interrompeva né lo fermava quando lavorava nel suo studio all'isola Vasilevski Nikita di solito se ne stava seduto senza muoversi sempre nello stesso posto lo si poteva dipingere quando si voleva dato che lui si addormentava addirittura nella posizione che gli era stata ordinata scontento posò il suo pennello e la tavolozza sulla sedia e si fermò torvo davanti alla tela un complimento detto dalla dama di mondo lo fece riavere dal suo torpore si precipitò svelto verso la porta per accompagnarle sulle scale fu invitato ad andare a pranzo da loro la settimana successiva e ritornò allegro nella sua stanza l'aristocratica signora l'aveva affascinato sino a quel momento aveva guardato le persone di quel genere come qualcosa di inaccessibile nate solamente per correre in belle carrozze con la che in livrea e un cocchiere azimato gettando sguardi indifferenti su chi arrancava a piedi con un modesto paltoncino ed ecco che tutta un tratto una di queste persone era entrata nella sua stanza egli ne faceva il ritratto era invitato a pranzare in una casa aristocratica una contentezza insolita si impadronì di lui era completamente inebriato e per questo si premiò con un sontuoso pranzo e con uno spettacolo serale poi di nuovo senza alcun bisogno andò in giro in carrozza per la città nelle giornate successive trascurò del tutto il consueto lavoro non fece altro che prepararsi ad attendere il momento in cui avrebbe sentito suonare il campanello finalmente l'aristocratica dama e la sua pallida figlia arrivarono e fece accomodare si avvicinò alla tela ormai con disinvoltura e con una certa pretesa di maniere mondane e si mise a dipingere una giornata piena di sole e di fifi da luce gli furono di grande aiuto nel suo originale vedeva molte cose che una volta colte e rese sulla tela avrebbero potuto conferire un alto prestigio al ritratto vedeva che ne sarebbe uscito qualcosa di speciale se avesse eseguito tutto con la perfezione con cui in quel momento gli si presentava il modello il cuore cominciò a battergli forte quando sentì che stava esprimendo qualcosa che gli altri non avevano ancora notato il lavoro lo prese interamente ed egli si immerse tutto nel pennello dimenticandosi di nuovo dell'aristocratica origine della sua modella sentiva di cogliere ogni sfumatura un giallo leggero un turchino appena visibile sotto gli occhi e già si preparava a dipingere persino un piccolo foruncoletto spuntato sulla fronte quando a un tratto udì sopra di sé la voce della madre ah questo perché questo non è necessario disse la signora e poi ecco in certi punti c'è un po' troppo giallo e qui ecco non mi piacciono queste macchioline scure l'artista spiegò che proprio quelle macchioline e quel giallo rendevano l'effetto davano un tono naturale leggero al viso ma gli fu risposto che non davano nessun tono e che non avevano nulla a che vedere con l'effetto e che quelle erano semplicemente sue impressioni permettete che almeno qui solo in questo punto ritocchi leggermente con un po' di giallo disse ingenuamente l'artista non gli fu permesso nemmeno questo dissero che Elise quel giorno era soltanto un poco indisposta e che non aveva nessun giallore e il suo viso colpiva specialmente per la freschezza del colorito con tristezza egli cominciò a cancellare ciò che il suo pennello aveva fatto emersere dalla tela scomparvero molti tratti quasi impercettibili e insieme con essi in parte scomparve anche la somiglianza senza alcuna partecipazione diede al ritratto quel colore generale che si dà a memoria e fa apparire i visi colti dal vero simili a quelli ideati a freddo che si vedono nelle esercitazioni degli allievi la signora era soddisfatta che l'offensivo colorito di prima fosse stato eliminato manifestò solo meraviglia che il lavoro durasse tanto e aggiunse di aver sentito dire che lui in due sedute poteva finire un ritratto l'artista non seppe cosa rispondere le due donne si accensero ad uscire egli posò il pennello le accompagnò alla porta poi si fermò a lungo immobile e turvo davanti al ritratto lo guardavo ottusamente e nella sua testa rivedeva intanto quei lievi tratti femminili quelle sfumature e quei toni aerei che il suo pennello aveva colti e poi spietatamente cancellati mi si è ritratto in disparte e cercò fra le sue cose una piccola testa di psiche abbandonata che una volta molto tempo prima aveva bozzato sulla tela era una testa dipinta abilmente ma del tutto ideale fredda fatta soltanto di lineamenti generici una cosa priva di vita prese a ritoccarla trasferendovi tutto ciò che aveva notato nel volto della sua aristocratica modella i tratti le sfumature i toni che gli aveva colto si deponevano ora qui nella forma pura in cui essi appaiono quando l'artista dopo aver guardato a sufficienza la natura se ne distacca e crea qualcosa pari ad essa la psiche cominciò ad acquistare vita ed ed è appena trapelata a poco a poco prese corpo senza che lui lo vedesse il tipo di volto di una fanciulla della buona società si trasmise alla testa di psiche che grazie a ciò acquistò quella particolare espressione tutta sua che distingue una vera opera d'arte era come se il pittore avesse fuso varie parti nell'insieme presentatogli dall'originale integrando alla perfezione ogni particolare nella sua opera per alcuni giorni non si occupò d'altro l'arrivo delle signore lo costrinse intanto a questo lavoro non fece in tempo a togliere dal cavalletto il quadro entrambe levarono un gioioso grido di stupore e batterono le mani lise lise che somiglianza superbe superbe che bell'idea avete avuto di abbigliarla in costume greco che sorpresa l'artista non sapeva come spiegare alle signore il piacevole equivoco vergognoso con la testa bassa disse sommessamente è una psiche in veste di psiche c'è charmant disse la madre con un sorriso sorrise pure la figlia non è vero lise che a te più di tutto si addice ad essere dipinta in veste di psiche che l'idea deliziosa ma che lavoro è un correggio lo confesso avevo letto e sentito di voi ma non pensavo che aveste un simile talento no dovete assolutamente fare il ritratto anche a me che cosa devo fare pensò l'artista se lo vogliono che la psiche passi pure per ciò che vogliono e ad alta voce disse cercate di posare ancora un poco farò qualche ritocco ah ho paura che voi è tanto somigliante così l'artista capì che i timori riguardavano il giallo e la tranquillizzò dicendo che voleva solo dare più brillantezza ed espressione agli occhi in realtà però provava vergogna e voleva conferire al ritratto almeno un po' più di somiglianza con l'originale per non essere considerato uno spudorato in effetti i lineamenti della pallida fanciulla cominciarono infine ad uscire più distinti dalla testa di psiche basta disse la madre che cominciava ad aver paura che la somiglianza risultasse alla fine troppo accentuata l'artista l'artista fu ricompensato in ogni modo sorrisi denari complimenti sincere strette di mano inviti a pranzo insomma ricevette mille attestati lusinghieri il ritratto fece scalpone in città la signora la mostrò alle sue amiche tutte si stupirono dell'arte con cui il pittore aveva saputo conservare la somiglianza e nello stesso tempo aggiungere bellezza all'originale quest'ultima cosa si intende fu osservata non senza una leggera sfumatura di invidia l'artista si trovò ad un tratto sommerso dalle richieste sembrava che tutta la città volesse farsi il ritratto da lui alla porta il campanello trillava di continuo da una parte ciò poteva essere un bene in quanto la varietà e la moltitudine delle fisionomie offriva grandi possibilità di far pratica ma disgraziatamente si trattava sempre di persone con le quali era difficile lavorare in pace gente frettolosa occupata o appartenente all'alta società ossia più affacendata di chiunque altro e perciò estremamente impaziente tutti chiedevano soltanto che il lavoro fosse fatto presto e bene l'artista vide che rifinire era assolutamente impossibile che tutto si doveva compensare con l'abilità e l'audace rapidità del pennello afferrare soltanto l'insieme l'espressione generale e non approfondire i dettagli minuti insomma seguire la natura nei suoi particolari era assolutamente impossibile si deve inoltre aggiungere che quasi tutti coloro che si facevano fare il ritratto avevano anche altre pretese le signore esigevano che nei loro ritratti fossero messi in evidenza l'anima e il carattere che il rimanente magari non vi apparisse affatto che tutti gli angoli venissero arrotondati tutti i difetti attenuati e persino se possibile ignorati insomma che il loro volto apparisse almeno guardabile se non tale da far innamorare di conseguenza sedendosi per posare esse assumevano talvolta delle espressioni che gettavano nello stupore l'artista una si sforzava di atteggiare il viso a malinconia un'altra prendeva un'aria sognante un'altra ancora voleva rimpicciolire la bocca e la stringeva talmente che alla fine essa diventava un puntino grande come una cappocchia di spillo nonostante tutto questo esigevano da lui somiglianza e spontanea naturalezza gli uomini non erano affatto meglio delle signore uno esigeva che lo si raffigurasse con un atteggiamento forte energico del capo un altro con gli occhi ispirati rivolti in alto il colonnello della guardia voleva assolutamente che nel suo sguardo si vedesse morte un altro dignitario civile si preoccupò che sul suo viso apparissero una grande dirittura e nobiltà e che la sua mano poggiasse sopra un libro dove era scritto a grandi lettere fu sempre per la verità queste richieste ponevano dei problemi su cui si doveva pensare riflettere e gli si concedeva invece così poco tempo ma alla fine capì meglio la situazione e non si affaticò più di tanto bastavano due o tre parole per fargli comprendere come una persona volesse venire raffigurata volevano marte lui gli stampava marte in faccia puntavano a byron lui dava un atteggiamento byroniano se le signore volevano essere una corina un'ondina una spasia lui la consentiva di buon grado a tutto e da parte sua aggiungeva per ognuno una buona dose di avvenenza cosa che come noto non guasta mai e talvolta fa perdonare all'artista anche il difetto di somiglianza ben presto cominciò egli stesso a meravigliarsi della stupefacente rapidità e dell'ardire del proprio pennello i clienti erano entusiasti e lo proclamarono genio kartkov diventò il pittore alla moda sotto tutti gli aspetti cominciò a frequentare i pranzi ad accompagnare le signore nelle gallerie e persino a passeggio a vestirsi da dandy e ad affermare apertamente che un artista deve far parte del bel mondo tenere alto il proprio titolo mentre di solito i pittori si vestono come calzolai non sanno comportarsi a modo non hanno stile e sono privi di ogni educazione a casa sua e nello studio aveva introdotto grande ordine e pulizia assunse due magnifici servitori si circondò di eleganti allievi si cambiava d'abito varie volte al giorno si faceva i riccioli cercava di ricevere sempre meglio i suoi visitatori di abbellire in ogni modo il proprio aspetto per produrre un'impressione gradevole sulle signore insomma ben presto non si sarebbe assolutamente più riconosciuto in lui l'artista che una volta lavorava inosservato nella sua stemberga dell'isola Vasilievski sugli artisti e l'arte adesso si esprimeva con asprezza affermava che agli artisti del passato si attribuiva in fin dei conti troppo valore che tutti loro fino a Raffaello non dipingevano figure ma ringhe che era solo una fantasia degli osservatori l'idea che in esse si sentisse la presenza della santità che lo stesso Raffaello non aveva poi dipinto tutto bene e che molte delle sue opere dovevano la loro gloria soltanto alla leggenda Michelangelo era un borioso che non pensava ad altro che a farsi bello della sua cultura anatomica ma era del tutto privo di grazia e che il vero fulgore la forza del pennello e dei colori si trovava soltanto adesso nel nostro secolo naturalmente quasi senza apparire la cosa arrivava a toccarlo da vicino io io non capisco diceva l'ostinazione di alcuni a faticare e sgobbare davanti a un'opera chi studia per mesi e mesi un quadro per me non è un artista ma un lavoratore non posso credere che abbia dell'ingegno il genio crea audacemente velocemente ecco guardate me diceva di solito rivolgendosi ai visitatori questo ritratto l'ho dipinto in due giorni questa piccola testa in un giorno questo qui in qualche ora quest'altro in un'ora poco più io io lo confesso non considero arte ciò che viene modellato linea per linea è mestiere non arte così parlava ai suoi visitatori e i visitatori si meravigliavano della forza e dell'ardire del suo pennello e persino lanciavano esclamazioni quando venivano a sapere della rapidità con cui egli creava e si dicevano l'un l'altro è un genio un vero genio guardate come parla come gli brillano gli occhi il regalciosto extraordinaire d'antussa figure l'artista era lusingato di sentire voci del genere sul suo conto quando sulle riviste venivano pubblicate lodi su di lui ne gioiva come un bambino sebbene quelle lodi se le fosse comperate col denaro poi diffondeva la pubblicazione dappertutto e senza dare l'impressione di farlo apposta la mostrava agli amici e ai conoscenti e in ciò provava la più sciocca e ingenua soddisfazione la sua gloria cresceva i lavori e le commissioni aumentavano si deve dire che si stava annoiando degli stessi ritratti degli stessi visi le cui posizioni e atteggiamenti conosceva ormai a memoria li dipingeva svogliatamente limitandosi ad abbozzare alla meno peggio la testa e lasciando che gli allievi facessero il resto prima bene o male cercava di mettere il capo in qualche nuova posizione di ottenere con un tratto un effetto originale ora questo gli era venuto a noia la sua mente si era stancata di inventare e di riflettere non ne aveva più la forza nel tempo la vita dissipata e la società in cui recitava la sua parte d'uomo di mondo lo allontanava dal lavoro e dalla meditazione la sua pennellata cominciò a diventare fredda e smorta ed egli insensibilmente si chiuse in forme monotone convenzionali logore i visi uniformi freddi perennemente sistemati e per così dire abbottonati dei funzionari dei militari e dei civili non offrivano molta libertà al pennello dimenticò i sontuosi drappeggi i gesti e le passioni violente di composizioni di tensione drammatiche di impegno elevato non era neppure il caso di parlare davanti a lui non posavano altro che uniformi corsetti o frac di fronte ai quali l'artista prova sempre una sensazione di freddo e ogni immaginazione si dilegua nelle sue opere non si vedevano neppure i pregi più comuni tuttavia continuavano a godere di celebrità sebbene i veri conoscitori e gli artisti guardando i suoi ultimi lavori si limitassero a stringersi nelle spalle qualcuno che conosceva il Kharkov di prima non riusciva a capire come fosse potuto scomparire in lui quel talento in cui i segni apparivano così chiari agli inizi e si domandava perché si fosse già spento l'ingegno in un uomo che aveva appena raggiunto il pieno sviluppo delle proprie forze ma l'artista inebriato non sentiva queste voci era ormai alle soglie del tempo in cui gli anni e l'intelletto diventano posati cominciano a ingrassare visibilmente sui giornali e sulle riviste leggeva aggettivi come il nostro riverito andriei petrovic l'emerito nostro andriei petrovic gli imposero incarichi onorifici lo invitarono a presiedere agli esami a far parte di comitati cominciava come sempre accade negli anni rispettabili a schierarsi con tutto il suo peso dalla parte di raffaello e degli antichi pittori non perché si fosse pienamente convinto del loro alto valore ma perché gli servivano per opporsi agli artisti giovani già cominciava come succede a tutti coloro che entrano in questa età ad accusare senza escezioni di sorta i giovani di immoralità e di cattivo indirizzo spirituale a credere che tutto al mondo avvenisse in modo semplice che non ci fosse nulla di superiore all'ispirazione e che bastasse sottoporre tutto alla regola severa dell'accuratezza e dell'uniformità insomma la sua esistenza sfiorava il tempo in cui tutto ciò che è slancio si rattrappisce nell'uomo quando il potente archetto risuona debolmente nell'anima e non diffonde la propria musica penetrando intorno al cuore quando il contatto della bellezza non trasforma più vergini forze in fuoco e fiamme ma tutti i sentimenti che hanno ormai finito di bruciare diventano più accessibili al suono dell'oro prestano un orecchio più attento alla sua seducente musica e a poco a poco insensibilmente se ne lasciano addormentare la gloria non dà piacere a chi l'ha rubata non meritata la gloria produce un costante fremito solamente in cui ne è degno ogni slancio del pittore si volse all'oro l'oro divenne la sua passione il suo ideale il suo terrore piacere scopo nei suoi bauli ammucchiò mazzi di banconote e come tutti coloro che ricevono in sorte questo terribile dono Karkov diventa monotono inaccessibile a tutto ciò che non riguardasse l'oro uno spilorcio senza ragione un fanatico collezionista era pronto a trasformarsi in uno di quei curiosi esseri così numerosi nel nostro insensibile mondo e a cui guarda con spavento l'uomo dotato di vita e di cuore simili ad ambulanti tombe di pietra con un cadavere al posto del cuore ma un avvenimento sconvolse con violenza e risvegliò tutta la sua sostanza vitale trovò un giorno sul tavolo un biglietto in cui l'accademia delle arti lo pregava in quanto suo degno membro di recarsi a dare il suo giudizio su una nuova opera mandata dall'italia da un artista russo che era andato laggiù per perfezionarsi l'artista era stato uno dei compagni d'un tempo e sin dall'adolescenza nutriva in sé la passione per l'arte e con spirito aderente con tutta l'anima vi si era consacrato allontanandosi dagli amici dai parenti dalle piccole abitudini si era precipitato là dove sullo sfondo di sciari stupendi matura il maestoso vivaio delle arti in quella portentosa Roma il cui nome fa battere con forza il cuore ad ogni artista come un eremita si era immerso nel lavoro con una dedizione che nulla poteva distrarre non gli importava che criticassero né il suo carattere l'insofferenza nel trattare con la gente il disdegno per convenzioni mondane né dal disonore causato dal titolo di artista con la sua trascuratezza con l'abbigliamento misero non gli importava che i colleghi cercassero o no la sua compagnia disprezzava tutto dava tutto all'arte visitava tutte le gallerie sostava per ore davanti alle opere dei grandi maestri cercando di cogliere il segreto del loro pennello portentoso non portava nulla a termine senza confrontare più volte la sua opera con quella dei grandi maestri e senza leggere nelle loro creazioni una muta ma eloquente risposta per se stesso non prendeva parte alle conversazioni rumorose e alle discussioni non era né per i puristi né contro i puristi a tutti in modo equanime dava quanto spettava da tutti prendeva ciò che c'era di bello alla fine aveva eletto a sommo modello il suo maestro solo il divino Raffaello aveva fatto come un poeta che dopo aver letto molte opere di ogni genere piena di tutto il fascino e di tutte le bellezze possibili scelga in ultimo come libro solamente l'Iliade e Domero perché scopre che in essa c'è già tutto e che non esiste nulla che non sia già riflesso in una così profonda e grande perfezione in tal modo il nostro pittore aveva tratto da Raffaello un'idea sublime della creazione la possente bellezza del pensiero l'alto fascino d'un tocco divino entrando nella sala Kharkov trovò raccolta davanti al quadro una grande folla di visitatori dappertutto regnava un profondo silenzio come raramente accade quando in un posto c'è tanta gente egli si affrettò ad assumere l'aria ispirata del conoscitore e si avvicinò al quadro ma dio mio che cosa vida l'opera dell'artista stava davanti a lui pura mirabile come una sposa divina innocente e semplice com'è il genio si ribrava su ogni cosa pareva perfino che quelle figure celestiali stupite da tanti sguardi rivolti su di loro abbassassero pudicamente le stupende cilia i conoscitori contemplavano con un senso di involontario stupore quella nuova e mai veduta creazione pittorica tutto sembrava armonicamente fuso lo studio di raffaello che si rivelava nell'alta nobilità degli atteggiamenti l'insegnamento del correggio che alitava nella minuziosa perfezione della pennellata ma più imperiosamente di tutto si imponeva la forza creativa racchiusa nell'anima stessa dell'artista anche il minimo oggetto era stato da lui penetrato in ogni cosa egli aveva colto la norma e la legge intima ovunque era stata raggiunta quella fluida rotondità delle linee che era chiusa nella natura e che soltanto l'occhio dell'artista creatore sa vedere mentre l'imitatore ne ottiene soltanto angolosità si vedeva che l'artista aveva da prima chiuso nella sua anima le impressioni attinte al mondo esterno e di lì dalla sorgente dell'anima le aveva liberate come un'armoniosa trionfale canzone appariva chiaro anche ai non iniziati quale incommensurabile abisso esista fra la creazione e la semplice copia della natura è impossibile descrivere l'insolito silenzio che tutti manifestavano sembravano legati da un patto involontario mentre tenevano gli occhi fissi sul quadro non un fruscio non un rumore mentre il quadro ad ogni istante sembrava elevarsi sempre più sempre più luminosamente meravigliosamente staccarsi da tutto per trasformarsi infine in una visione balenante frutto di un'idea ispirata all'artista dal cielo cui tutta l'esistenza d'un uomo serve solo da preparazione involontarie lacrime gonfiavano gli occhi dei visitatori sembrava che tutti i gusti tutte le temerarie sbagliate deviazioni del gusto si fossero fuse in una specie di muto inno a quell'opera divina kartkov stava davanti al quadro immobile con la bocca aperta quando infine a poco a poco visitatori e conoscitori cominciarono a far rumore e discutere sui pregi dell'opera e si rivolse a lui pregandolo di palesare il suo parere avrebbe voluto assumere un'aria indifferente normale avrebbe voluto pronunciare l'abituale abietto giudizio degli artisti ormai mummificati del genere sì certo non si può negare l'ingegno dell'artista c'è qualcosa si vede che voleva esprimere qualcosa tuttavia per quanto riguarda l'essenziale e aggiungere poi naturalmente qualcuna di quelle lodi che non hanno mai giovato ad alcun artista avrebbe voluto fare questo ma la frase gli morì sulle labbra per tutta risposta proruppe in lacrime e singhiozzi e fuggì come impazzito dalla sala rimase per qualche tempo nel suo studio lussuoso immobile e insensibile a tutto l'intero suo essere l'intera sua vita erano state risvegliate in un istante come se la giovinezza gli fosse stata restituita di nuovo tutto a un tratto la benda cadde dagli occhi Dio distruggere così spietatamente gli anni migliori della giovinezza annientare spegnere la scintilla del fuoco che forse gli covava nel petto che forse si sarebbe sviluppata in grandezza in bellezza ispirando lacrime di stupore e di riconoscenza distruggere tutto distruggere senza pietà parve che in quell'istante di colpo rivivesse nella sua anima quelle tensioni e quegli slanci che un tempo conosceva afferrò il pennello e si avvicinò alla tela in sudore in sudore dello sforzo gli coprì la fronte ed egli si trasformò in un solo desiderio e si infiammò d'un solo pensiero raffigurare un angelo caduto quest'idea era la più consona allo stato in cui si trovava il suo spirito ma ahimè le figure le pose i gruppi i pensieri stessi si deponevano sulla tela in modo forzato e incoerente troppo a lungo il suo pennello e la sua immaginazione erano rimasti chiusi in un'unica dimensione ed ora il suo potente impulso a superare i confini e le catene che egli stesso sarà dato si manifestava come un'aberrazione e un errore aveva sdegnato il lungo e faticoso tirocinio dell'apprendimento graduale le leggi prime e basilari della futura grandezza si indispettì ordinò di portare fuori dallo studio tutte le opere precedenti i quadri alla moda e senza vita i ritratti di ussali di signore e consigliari di stato si chiuse solo nella sua stanza ordinò di non fare entrare nessuno e si immerse tutto nel lavoro come un uovano impaziente come un allievo si accinse al lavoro come era spettatamente mediocre tutto quello che usciva dal suo pennello ad ogni passo era frenato dall'ignoranza degli elementi più rudimentali un artificio semplice insignificante bloccava tutto lo slancio e si ergeva come una soglia invalicabile per l'immaginazione il pennello involontariamente seguiva i modelli imparati a memoria le mani si atteggiavano sempre nella stessa maniera la testa non sapeva prendere una posizione che non fosse convenzionale perfino le pieghe dell'abito apparivano fissate dalla consuetudine e non riuscivano a drappeggiarsi secondo un atteggiamento nuovo del corpo e il pittore lo sentiva lo sentiva e lo vedeva avevo veramente talento si disse infine non mi sarò ingannato pronunciate queste parole si avvicinò alle sue prime opere a cui un tempo avevo lavorato in modo pulito disinteressato da giù nella povera stamberga dell'isola vasilievski lontano dalla gente dalla ricchezza e da ogni valità si avvicinò ad esse e le esaminò attentamente mentre le guardava cominciò a riandare col pensiero alla sua misera vita ad un tempo si disse con disperazione avevo talento dappertutto su tutto se ne vedono i segni e le tracce si fermò e ad un tratto sussultò in tutto il suo corpo i suoi occhi si erano incrociati con altri occhi che lo fissavano immobili era il non comune ritratto che aveva comprato allo scucchin dvor durante tutto quel tempo era rimasto nascosto occultato dagli altri quadri e lui se ne era completamente dimenticato adesso che erano stati portati via tutti i ritratti e i quadri alla moda che prima riempivano lo studio era riemerso alla luce insieme alle sue prime opere giovanili quando il pittore rammentò la strana storia quando ripensò che in un certo modo quel ritratto era stato la causa della sua trasformazione che il tesoro così prodigiosamente ricevuto aveva generato in lui tutti quegli impulsi vani che poi avevano ucciso il suo talento per poco la sua mente non fu sopraffatta dalla follia subito diede ordine di portare via l'odioso ritratto ma questo non bastò a placare la sua agitazione tutti i suoi sensi e tutto il suo essere erano totalmente sconvolti ed egli provò quell'orribile supplizio che in casi eccezionali si presenta a volte nella natura quando un talento debole si sforza di esprimersi in una dimensione che lo oltrepassa e non riesce quel supplizio che in un giovane può generare qualcosa di grande ma in cui ha superato la frontiera dei sogni si trasforma in sterile sete quel supplizio terribile che rende l'uomo capace di spaventosi misfatti di lui si impadronì una tremenda invidia un'invidia che rasentava la follia il fiele gli affluiva il viso quando vedeva un'opera che recava l'impronta del genio digrignava i denti e la divorava con lo sguardo del serpente nella sua anima nacque il più infernale proposito che mai un uomo abbia nutrito e lui si mise a realizzarlo con folle energia dopo aver acquistato un quadro a caro prezzo lo portava con cautela nella sua stanza si gettava su di esso e con la rabbia di una tigre lo strappava lo lacerava lo faceva a pezzi e lo calpestava accompagnando questo con risa di piacere slegò i suoi sacchi d'oro aprì i forzieri mai alcun mostro d'ignoranza distrusse tante opere stupende quante ne distrusse quel furibondo vendicatore alle aste dove gli si mostrava tutti abbandonavano subito la speranza di poter acquistare un'opera d'arte pareva che il cielo erato avesse di proposito inviato sulla terra quello spaventoso flagello per distruggere ogni bellezza questa spaventosa passione conferì una tinta terribile al suo viso perennemente miglioso il vituperio e la negazione del mondo si manifestavano nei suoi lineamenti pareva che in lui si fosse impersonificato il terribile demone che Pushkin aveva voluto raffigurare idealmente le sue labbra non proferivano nient'altro che parole velenose e un'eterna negazione di tutto appariva sulla strada simile a un'arpia anche i suoi amici vedendolo di lontano scantonavano e cercavano di evitarne l'incontro perché dicevano questo era sufficiente ad avvelenare un'intera giornata per fortuna del mondo e dell'arte un'esistenza così tesa e forse innata non può durare a lungo la dimensione delle passioni era troppo grande e contorta per le sue deboli energie gli accessi di furore e di follia cominciarono a manifestarsi più spesso e tutto ciò infine sfociò nella più spaventosa delle malattie una febbre crudele che si accompagnò ad una forma rapida di tubercolosi si impadronì di lui in modo così feroce che in tre giorni del pittore rimase solamente l'ombra a ciò si aggiunsero i sintomi di una pazzia senza speranza che al volta non riuscivano a rezzerlo neanche diverse persone cominciò ad avere una visione vedeva gli occhi vivi rimossi da tempo dell'inconsueto ritratto e allora la sua furia era terribile tutte le persone che attorniavano il suo letto gli sembravano spaventosi ritratti tutto si stoppiava si quadruplicava i suoi occhi le pareti gli sembravano coperte di ritratti che fissavano su di lui occhi vivi e immobili ritratti orribili lo guardavano dal soffitto dal pavimento la camera si dilatava e si distendeva all'infinito per meglio contenere quegli occhi immobili il dottore che lo curava e che già aveva sentito raccontare della sua strana storia tentò con ogni mezzo di scoprire un rapporto segreto fra le visioni che gli apparivano e gli avvenimenti della sua esistenza ma senza riuscire a nulla il malato non comprendeva e non sentiva altro che i propri tormenti ed emetteva solamente orrendi gemiti e frasi incoerenti finalmente la sua vita si spezzò nell'ultimo e ormai mutuo accesso di sofferenza il suo cadavere era spaventoso delle sue enormi ricchezze non si trovò nulla ma i frammenti delle opere d'arte distrutte il cui prezzo era di parecchi milioni fecero capire quale spaventoso uso egli ne avesse fatto un gran numero di carrozze calessi e carrozzini era fermo davanti all'ingresso di un'abitazione dove si effettuava la vendita all'asta degli oggetti di uno di quei ricchi amatori d'arte che per tutta la loro vita hanno dolcemente sonnecchiato sprofondato fra gli zefiri e gli amorini hanno avuto fama di innocenti mecenati e ingenuamente hanno sperperato i milioni accumulati dai loro padri o magari da loro stessi col proprio lavoro negli anni giovanili oggi di questi mecenati non se ne trovano più è il nostro diciannovesimo secolo già da tempo ha assunto la noiosa fisionomia di un banchiere che si gode i suoi milioni solo sotto forma di cifre allineate sulla carta la lunga sala era piena della più variopinta folla di visitatori accorsi come uccelli da preda su un cadavere insepolto c'era tutta una schiera di mecenati russi del gostini e persino del mercato dei robbi vecchi con i loro azzurri cappotti tedeschi il loro aspetto e l'espressione delle facce erano in quell'ambiente in un certo senso più duri liberi non improntati a quell'affettato servilismo che è tanto evidente nel mercante russo quando sta in bottega davanti al cliente complimenti non ne facevano sebbene nella stessa sala si trovasse un gran numero di quegli aristocratici dinnanzi ai quali in altro luogo sarebbero stati pronti a spazzare a furia di inchini la polvere portata dai loro stivali si comportavano senza cerimonie tastavano disinvolti i libri e i quadri per constatare la bontà della merce e contestavano a voce alta il prezzo annunciato dagli esperti ne mancavano i soliti appassionati d'arte gente che ogni giorno invece di andare a pranzo va a un'asta nobili intenditori che ritengono doveroso non farsi sfuggire l'occasione di aumentare la propria collezione anche perché non hanno altro da fare da mezzogiorno all'una e infine dei signori il cui abito e le cui tasche sono assai male in arnese e che comprano ogni giorno senza alcun fine interessato ma unicamente per vedere come vanno le cose chi dia di più chi di meno chi batta un altro sul prezzo e a chi resti un dato oggetto una gran quantità di quadri era sparsa qua e là senza alcun criterio ad essi si mescolavano mobili e libri con il monogramma del vecchio possessore il quale forse non aveva avuto nemmeno la lodevole curiosità di darvi un'occhiata vasi cinesi lastre di marmo per tavoli mobili moderni e antichi dalle linee curve con grifi sfingi e zampe di leone dorati e senza doratura lampadari lumi tutto era ammassato e non certo nell'ordine in cui lo si trova in un negozio insieme dava insomma l'idea di una sorta di caos artistico in generale la sensazione che si prova ad un'asta è terribile in essa tutto fa pensare ad un funerale la sala in cui si tiene l'asta è sempre tetra le finestre ingombre di mobili e di quadri lasciano filtrare avaramente la luce il silenzio diffuso sulle facce e la funebre voce del banditore che batte col martello e canta le eseque alle povere arti così spietatamente raccolte in questo luogo tutto ciò sembra rafforzare la sgradevole e bizzarra impressione l'asta era il suo culmine un'intera folla di gente per bene che si spostava tutta insieme discuteva a gara di qualcosa le parole rubli 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 checheggiavano da tutte le parti non davano al banditore il tempo di ripetere il prezzo raggiunto che era già quadruplicato rispetto a quello d'apertura la folla discuteva ad un ritratto che in verità non poteva non colpire chiunque avesse una minima nozione di pittura in esso si avvertiva a prima vista lo stile vigoroso del pittore il ritratto che doveva essere già stato innumerevoli volte restaurato e ritoccato rappresentava un asiatico con i lineamenti olivastri una larga veste e il viso atteggiato a un'espressione strana inconsueta ma la gente intorno era soprattutto colpita dall'eccezionale vivezza degli occhi più li si guardava più essi parevano penetrare nell'intimo stesso dell'osservatore questa stranezza questo insolito gioco dell'artista colpiva tutti ma già molti di coloro che se lo contendevano si erano ritirati per l'altezza del prezzo ormai raggiunto erano rimasti in lizza solo due signori due nobili conosciuti amatori di pittura che per nessun motivo intendevano rinunciare all'acquisto si erano scaldati e probabilmente avrebbero alzato il prezzo sino all'impossibile se improvvisamente uno dei presenti non avesse esclamato permettete che interrompa per un momento la vostra disputa forse io ho diritto a questo quadro più di chiunque altro queste parole attirarono immediatamente su di lui l'attenzione di tutti era un uomo slanciato sui 35 anni con lunghi riccioli neri il volto piacevole pervaso da una sorta di luminosa spensieratezza rivelava un'anima aliena dalle spossanti fatiche mondane nel suo abbigliamento non c'era nessuna pretesa di seguire la moda tutto manifestava in lui l'artista ed egli era appunto il pittore B che molti dei presenti conoscevano di persone per quanto strane vi sembrano le mie parole continuò vedendo l'attenzione generale rivolta su di lui se accettate di ascoltare una piccola storia forse vi convincerete che avevo il diritto di pronunciarle tutto mi fa credere che questo ritratto è appunto quello che stavo cercando una naturale curiosità si accese sulle facce dei presenti e lo stesso banditore spalancata la bocca si fermò con il martello sollevato nella mano accingendosi ad ascoltare all'inizio del racconto molti rivolsero involontariamente gli occhi al ritratto ma poi tutti rifissarono soltanto sull'artista via via che la sua storia diventava più interessante conoscete quel quartiere della città chiamato Colomna esordì là tutto è diverso dagli altri quartieri di Pietroburgo non è provincia e non è capitale quando passi per le strade di Colomna sembra che tutti i desideri e gli slanci giovanili ti abbandonino là il futuro non esiste e tutto è quiete il silenzio in quel quartiere si trova tutto ciò che si è tirato indietro dal movimento della capitale si trasferiscono a vivere i funzionari in pensione le vedove le persone non ricche che hanno a che fare col senato e perciò si sono condannate a vivere qui per tutta la vita cuoche disoccupate che tutti i giorni si danno spintoni ai mercati chiacchierano di sciocchezze con un contadino in una drogheria e comprano ogni giorno 5 copecchi di caffè e 4 di zucchero insomma quella categoria di persone che si può definire con una sola parola cinerea gente che nel vestito viso capelli negli occhi ha un colorito spento fioco cinereo appunto come la giornata quando in cielo non c'è né tempesta né sole ma semplicemente né questo né quello si aggiungono gli inservienti teatrali in pensione i consiglieri titolari in pensione i pupilli di Marta in pensione privi di un occhio e con il labbro cascante questa gente è indifferente a tutto cammina senza guardare nulla tace senza pensare a nulla nelle loro stanze non ci sono molte cose talvolta soltanto un boccale di pura vodka russa che essi sorseggiano monotonamente è il giorno intero senza che dia loro alla testa come accade invece al giovanotto di via Menskanskaja l'artigiano tedesco che nei giorni di festa se ne serve una robusta dose e poi resta unico padrone di tutto il marciapiede dopo la mezzanotte la vita a Colonna è tremendamente solitaria raramente appare una carrozza eccetto forse quella di una compagnia di attori essa turba il generale silenzio con il suo strepito la tutti sono pedoni molto spesso un vetturino di piazza si trascina senza clienti portando del fieno per il suo peloso cavalluccio si può trovare un alloggio per 5 rubli al mese persino con i caffè al mattino le vedove con pensione rappresentano qui il ceto più aristocratico esse si comportano bene spazzano sovente la loro stanza chiacchierano con le amiche del rincaro della carne di vitello e del cavolo spesso hanno una figlia giovane una creatura silenziosa intristita non di rado graziosa può darsi anche che abbiano un cagnolino e un orologio a muro con il pendolo che batte tristemente poi vengono gli attori ai quali lo stipendio non permette di andarsene da colonna lente libera come tutti gli artisti che vivono per il piacere seduti in pigiama essi ripuliscono la rivoltella fanno ogni sorta di cosette utili per la casa incollando del cartone giocano a dama e a carte con gli amici che vengono a trovarli e così trascorrono la mattina e quasi lo stesso fanno la sera con l'aggiunta qualche volta di un punch dopo questa bella gente questi aristocratici a colonna c'è la solita minutaglia e robetta è difficile distinguere tra questa come è difficile contare la miriade di insetti che nasce nell'aceto vecchio ci sono vecchie che pregano altre che si ubriacono alcune che pregano e che si ubriacano nello stesso tempo vecchie che campano con mezzi inimmaginabili che come formiche trascinano stracci e biancheria dal ponte calinin sino al mercato dei robi vecchi cercando di venderli per 15 copechi detto tra noi si tratta del più infelice sedimento dell'umanità di cui nessun benefico amministratore potrebbe in alcun modo migliorare la sorte ho parlato di questa gente per farvi capire che spesso essa si trova nella necessità di avere sia pure solo un aiuto temporaneo ma immediato ossia di ricorrere a prestiti ragione per cui fra loro si insediano usurai di ogni genere che riformiscono di piccole somme su pegno e dietro forti interessi questi piccoli usurai sono molto peggiori di quelli importanti perché spuntano in mezzo alla povertà e agli stracci più misurabili scioginati al sole a differenza dell'usuraio ricco il quale ha a che fare solamente con persone che arrivano da lui in carrozza troppo presto muore nelle loro anime ogni sentimento di umanità fra questi usurai ce n'era uno ma è necessario premettere che la storia che vi racconto risale a secolo scorso e precisamente al regno di Caterina II sapete da voi che l'aspetto del quartiere Colonna e la vita che vi si svolge sono oggi molto cambiati dunque fra quegli usurai ce n'era uno che appariva come un essere insolito sotto tutti gli aspetti si era stabilito da tempo in quella parte della città andava in giro con un'ampia veste asiatica in colore scuro del viso indicava la sua provenienza meridionale ma nessuno avrebbe potuto dire con sicurezza se fosse indiano greco o persiano l'alta statura quasi eccezionale la faccia abbronzata magra riarsa e colorito inconcepibile pauroso della sua pelle i grandi occhi di un fuoco non comune i folti sopraccigli pendenti tutto ciò lo distingueva nettamente da tutti i grigi abitanti della capitale la sua stessa la sua stessa ubicazione non somigliava alle altre piccole casette di legno era una costruzione di pietra del tipo di quelle che una volta costruivano i mercanti genovesi con finestre irregolari di diversa grandezza con imposte e catenacci di ferro questo usuraio era diverso dagli altri per il fatto che poteva rifornire chiunque di qualsiasi somma una vecchia in miseria o un dignitario di corte dalle tasche bucate davanti alla sua casa si vedevano non di rado lussuose carrozze dai cui finestrini occhieggiava un elegante dama di mondo correva fama che i suoi forziari di ferro fossero ricolmi di denaro preziosi brillanti e pegni di ogni genere al punto da non poterli contare e che tuttavia egli non avesse l'avidità che è propria degli altri usurai concedeva denaro volentieri fissando in apparenza vantaggiosi termini di pagamento attraverso curiosi calcoli aritmetici faceva salire gli interessi a percentuali spropositate così almeno dicevano le voci la cosa più straordinaria tuttavia e tale da stupire molti era lo strano destino di tutti quelli che ottenevano denaro da tutti tutti infatti terminavano la vita in modo infelice fosse semplicemente l'opinione della gente assurda soversizione o voce diffusa d'arte tuttora non si sa diversi esempi verificatisi comunque in un breve periodo di tempo davanti agli occhi di tutti erano vivi e sbalorditivi nell'ambiente aristocratico di allora aveva in poco tempo attirato su di sé l'attenzione di tutti un giovane d'ottima famiglia il quale già nella sua giovanile età si era distinto nel campo delle attività di governo ardente stimatore di ogni cosa elevata appassionato di tutto ciò che ha creato l'arte e l'intelligenza dell'uomo promettente futuro mecenate ben presto gli fu notato dalla stessa imperatrice la quale gli affidò un posto importante in armonia con le sue aspirazioni un posto dove poteva fare molto per le scienze e per le arti in genere il giovane dignitario si circondò di artisti di poeti di scienziati voleva dare a tutti un lavoro incoraggiare tutti iniziò a proprie spese un numero di utili pubblicazioni distribuì molte commissioni annunciò premi di incoraggiamento gettò in questa attività grande quantità di denaro e infine cadde in miseria pieno di magnanimo slancio non volle rinunciare alla propria impresa dappertutto cercava denaro in prestito e infine si rivolse al celebre usuraio dopo aver contratto con lui un notevole prestito in poco tempo quest'uomo mutò completamente diventò un oppressore un persecutore dell'intelligenza e del talento in tutte le opere cominciò a vedere un aspetto negativo interpretava falsamente ogni parola proprio in quel tempo purtroppo ci fu la rivoluzione francese questo gli servì di pretesto per tutte le possibili infamie cominciò a vedere in tutto un indirizzo rivoluzionario in tutto gli sembrava discorgere allusioni diventò sospettoso al punto che alla fine sospettò persino di se stesso e cominciò a compilare terribili ingiuste denunce a creare un gran numero di infelici ma da sé che la voce di similiazioni non poteva a un certo punto non arrivare sino al trono la magnanima imperatrice ne fu atterrita e piena di quella nobiltà d'animo che abbellisce i regnanti pronunciò parole che non hanno potuto arrivare sino a noi con assoluta esattezza ma il cui profondo significato si impressa nel cuore di molti l'imperatrice osservò che sotto il governo monarchico non si opprimono gli alti e nobili slanci dell'animo non si disprezzano e perseguitano le opere dell'intelligenza della poesia e delle arti che al contrario proprio i monarchi sono sempre stati i protettori di queste cose anche gli Shakespeare i Molière sono fioriti sotto la loro magnanima protezione mentre Dante non poteva trovare un angolo dove ripararsi nella sua patria repubblicana disse che i verigeni nascono nei periodi di splendore e di potenza dei regnanti e degli stati e non nei tempi di fenomeni politici mostruosi e di terrorismo repubblicano che finora non hanno donato al mondo un solo poeta sostenne che occorre dare un riconoscimento ai poeti e agli artisti visto che inducono nell'anima la pace e il silenzio della bellezza e non l'agitazione e le mormorazioni che tutti gli scienziati i poeti e tutti i creatori d'arte sono perle e diamanti della corona imperiale e l'epoca di un grande regnante ne è abbellita e ne riceve ancora maggior splendore insomma pronunciando quelle parole l'imperatrice fu in quel momento divinamente magnifica ricordo che i vecchi non potevano parlare di questo senza lacrime tutti si sentirono colpiti da quelle parole ad onore del nostro orgoglio nazionale vale la pena di notare che nel cuore russo sempre alberga il bellissimo sentimento che spinge a prendere le parti dell'oppresso il dignitario che aveva tradito la fiducia in lui riposta fu esemplarmente punito e allontanato dal suo posto ma egli lesse una punizione assai più terribile sui volti dei suoi compatrioti era un disprezzo definitivo e generale non si può dire quanto soffrisse quell'anima vana gloriosa orgoglio amor proprio deluso speranze che crollavano tutto si mescolava e la sua vita terminò tra attacchi di spaventosa follia e di furore un altro esempio stupefacente accadde anch'esso sotto gli occhi di tutti fra le belle donne di cui allora non era povera la nostra nordica capitale una aveva decisamente conquistato la supremazia su tutte era una specie di meravigliosa fusione della nostra bellezza settentrionale con la bellezza del mezzogiorno un brillante come se ne vedono di rado al mondo mio padre confessava che in tutta la sua vita non aveva mai visto niente di simile tutto pareva essersi fuso in lei la ricchezza l'intelligenza e il fascino dell'anima i pretendenti erano una folla e fra loro maggiormente in vista il principe R il più nobile il migliore dei giovani il più bello sia nel volto che per i bagnani miei cavallerischi impulsi perfetto ideale dei romanzi e delle donne un grandinson sotto tutti gli aspetti il principe innamorato in modo appassionato e folle era corrisposto da un amore altrettanto ardente ma il partito non sembrava abbastanza buono ai parenti della ragazza le tenute a vita del principe da tempo ormai non gli appartenevano più la famiglia era in disgrazia e la cattiva situazione dei suoi affari nota a tutti improvviso il principe lo sciò alla capitale per andare a riassestare e i suoi affari ricomparve dopo non molto tempo circondato da un lusso e da uno splendore incredibili i suoi balli e le sue feste sfavillanti lo rendono noto a corte il padre della ragazza si convince e così si celebra uno splendido matrimonio nessuno sapeva spiegare con certezza a cosa attribuire quel cambiamento e l'inaudita ricchezza dello sposo ma si diceva sotto sotto che egli avesse concluso un patto con un misterioso usuraio comunque fosse il matrimonio interessò l'intera città sia lo sposo che la sposa erano oggetto dell'invidia generale a tutti era noto il loro ardente tenace amore i lunghi struggimenti sofferti da entrambi le alte qualità di tutti e due le donne appassionate si figuravano già in anticipo le delizie paradisiache che avrebbero assaporato i giovani coniugi tutto andò diversamente nello spazio di un anno nel marito avvenne un terribile mutamento il veleno di una gelosia sospettosa dell'intolleranza e di inesauribili capricci contagiò quel carattere fino allora nobile e buono divenne il tiranno e il torturatore di sua moglie e cosa che nessuno avrebbe potuto prevedere ricorse alle azioni più disumane persino alle percosse in un solo anno nessuno avrebbe più riconosciuto quella donna che ancora poco tempo prima brillava ed attirava folle di docili spasimanti finalmente non avendo la forza di sopportare oltre il suo pesante destino e la parlò di divorzio il marito montò su tutte le furie al solo pensiero il suo primo gesto di rabbia fece irruzione nella stanza della moglie con un coltello e l'avrebbe senza dubbio scannata su due piedi se non l'avessero trattenuto e fermato allora in un impulso di frenesia e di disperazione rivolse il coltello contro di sé e terminò la sua vita fra i più spaventosi tormenti oltre a questi due esempi avvenuti sotto gli occhi di tutta la buona società se ne raccontano moltissimi accaduti nelle classi inferiori quasi tutti conclusi in modo terribile un uomo sobrio onesto diventava un ubriacone un commesso di mercante derubava il proprio padrone un vetturino che per anni aveva lavorato onestamente uccideva per pochi centesimi il cliente era naturale che simili avvenimenti raccontati spesso con le debite aggiunte suscitassero una specie di involontario terrore fra i modesti abitanti di Colomna nessuno dubitava della presenza di una forza demoniaca in quell'uomo dicevano che egli proponesse condizioni che facevano rizzare i capelli in testa tant'è che l'inferice non osava mai riferire a nessuno che il suo denaro avesse una proprietà magnetica che si arroventasse da solo e avesse certi strani segni insomma correvano voci assurde di ogni genere ed è sintomatico il fatto che tutta la popolazione di Colomna tutto quel mondo di vecchia e miseria di piccoli funzionari di mediocchi artisti e insomma di ogni genere di minutaglia di cui ho testi parlato preferisse sopportare la miseria più squallida piuttosto che rivolgersi al terribile usuraio erano state trovate morte di fame delle vecchie rassegnate a lasciare estinguere il proprio corpo piuttosto di uccidere l'anima incontrandolo per strada la gente provava un inconscio terrore il passante indietreggiava cautamente e poi si voltava ancora a lungo seguendo la sua altissima figura che si dileguava lontano il suo stesso aspetto era così insolito che chiunque era spinto suo malgrado ad assicurargli facoltà soprannaturali quei lineamenti forti intagliati così profondamente come non accade di vederne nessun essere umano l'ardente bronzo colore del volto l'incredibile foltezza dei sopraccigli gli occhi terribili e dallo sguardo insostenibile e persino le larghe pieghe della sua veste asiatica tutto pareva dire che rispetto alle passioni che si agitavano in quel corpo le passioni degli altri erano sbiadite mio padre si fermava e restava immobile ogni volta che lo incontrava ed ogni volta non sapeva trattenersi dall'esclamare un diavolo un vero diavolo ma occorre che vi presenti mio padre che fra l'altro è il vero soggetto di questa storia era un uomo notevole sotto molti riguardi un artista come ce ne sono pochi uno di quei prodigi che solamente la Russia fa uscire dalle sue inattese viscere un artista autodidatta che da solo senza mestieri e scuole aveva trovato nella propria anima le regole e le leggi affascinato solamente dalla sete di perfezione e che per ragioni che forse neppure egli conosceva seguiva sempre e soltanto la strada indicatagli dall'anima era uno di quei fenomeni spontanei che di solito i contemporanei gratificano dell'offensivo epiteto di ignoranti e che non si scoraggiano per gli scherni e gli insuccessi ma anzi ne traggono nuovo slancio e nuove forze e arrivano a superare in se stessi le opere per cui furono chiamati ignoranti con un istinto interiore egli fiutava la presenza di un'idea in un oggetto da solo aveva compreso l'autentico significato dell'espressione pittura storica mentre un enorme quadro di soggetto storico rimane comunque sempre un tableau de genre per quanto l'artista pretenda di fare della pittura storica sia il sentimento interiore sia le sue personali convinzioni avevano rivolto il suo pennello a soggetti cristiani supremo ed ultimo grado dell'eccelso non era ambizioso e suscettibile caratteri che si ritrovano così spesso in molti artisti d'indole ferma era un uomo onesto rettilineo persino rozzo esteriormente coperto da una scorza piuttosto dura non priva di un certo orgoglio nei confronti degli altri si esprimeva con indulgenza e asprezza insieme cosa vuoi che li guardi diceva solitamente non è per loro che lavoro non è in salotto che porto i miei quadri ma li metteranno in una chiesa chi li capirà vi ringrazierà chi non li capirà pregherà ugualmente Dio non si può incolpare l'uomo di mondo egli non si intende di pittura si intende di carte da gioco è esperto di buoni vini di cavalli perché un perché un signore dovrebbe saperne di più se poi vuole assaggiare questo e quello e se va in giro a sputare sentenze non ti lascia più vivere ma ciascuno è il suo e che ciascuno si occupi del suo secondo me è meglio chi ti dice apertamente di non capirne nulla chi fa l'iposita dice di sapere ciò che non sa e riesce solo a rovinare e sciupare tutto dipingeva per pochi soldi per quanto gli era necessario per il sostentamento della famiglia e per portare avanti il lavoro non rifiutava mai di aiutare gli altri o di porgere una mano a un pittore povero credeva con la fede semplice e pia degli avi per questo forse dai volti dipinti da lui emanava naturalmente quell'espressione elevata che ingegni anche più brillanti non riescono a raggiungere insomma con la costanza del suo lavoro e la fedeltà alla via che gli stesso si era tracciata cominciò a conquistare anche il rispetto di quelli che l'avevano chiamato ignorante e autodidatta casalingo aveva continue commissioni per le chiese e il lavoro non gli mancava mai uno di questi lavori lo impegnò fortemente non ricordo più in che cosa precisamente consistesse il soggetto so soltanto che nel quadro bisognava raffigurare lo spirito delle tenebre egli pensò a lungo a quale aspetto dargli voleva che il suo volto esprimesse tutto ciò che angoscia e opprime l'uomo durante queste riflessioni gli veniva talvolta in mente l'immagine del misterioso usuraio ed egli pensava senza volerlo ecco chi dovrai dipingere in veste di diavolo giudicate dunque del suo stupore quando una volta mentre lavorava nel suo studio udì bussare alla porta e subito dopo vide venire verso di lui il terribile usuraio mio padre sentì come un fremito interno che gli percosse tutto il corpo sei pittore chiese senza tanti complimenti l'usuraio a mio padre sì pittore rispose mio padre perplesso aspettando di vedere cosa ne sarebbe seguito bene fammi il ritratto forse io presto morirò non ho figli ma non voglio morire del tutto voglio vivere ancora puoi dipingere un ritratto che sia veramente vivo mio padre pensò che c'è di meglio è lui stesso che chiede di fare da diavolo nel mio quadro diede la sua parola si missero d'accordo sul tempo e sul prezzo e il giorno dopo presi i pennelli e la tavolozza mio padre era già dall'usuraio l'alto cortile i cani le porte i catenacci di ferro le finestre ad arco i forzi aerei ricoperti di strani tappeti e infine lo stesso non comune padrone che stava seduto davanti a lui tutto questo gli produsse una strana impressione come a farlo apposta le finestre erano ostruite dal basso all'alto da cumuli di roba ammucchiata sicché davano luce soltanto alla sommità al diavolo come è bene illuminata ora la sua faccia si disse mio padre e si accinse rapidamente come temendo che quella felice illuminazione scomparisse che forza ripeti fra sé se mi riesce di ritrarlo anche solo in parte come ora questo mi ammazza tutti i miei santi e angeli mi fa impallidire tutti che forza demoniaca se posso avvicinarmi al vero anche solo un poco questo mi salta fuori dalla tela che lineamenti straordinari ripeteva di continuo accrescendo il suo zelo e già vedeva come certi tratti cominciassero a passare sulla tela ma quanto più si avvicinava a quei lineamenti tanto più provava una sorta d'oppressione ed ansia che gli riusciva incomprensibile malgrado ciò si propose di perseguire con fedeltà letterale ogni più minuta fattezza ed espressione prima di tutto volle portare a compimento gli occhi in quegli occhi c'era tanta forza che pareva non si potesse nemmeno pensare di renderli fedelmente così come erano in realtà decise comunque di scoprire in essi anche l'ultima e minima sfumatura di capirne il segreto ma appena cominciò a entrare a inoltrarsi in essi con il pennello nella sua anima nacque una così strana repulsione un così incomprensibile senso di angoscia che per un certo tempo dovette posare il pennello solo dopo un poco poteri prenderlo e mettersi di nuovo al lavoro alla fine non pote più resistere sentiva che quegli occhi gli si conficcavano nell'anima e vi producevano un'agitazione indicibile il secondo il terzo giorno questa sensazione fu ancora più forte cominciò ad avere paura lasciò il pennello e disse senza mezzi termini che non poteva più dipingere bisognava vedere come cambiò a quelle parole lo strano usuraio gli si gettò ai piedi e lo supplicò di terminare il ritratto dicendo che da questo dipendevano il suo destino e la sua esistenza al mondo che con il suo pennello lui aveva già sfiorato i suoi tratti vivi che se li avesse resi con fedeltà la sua vita per forza soprannaturale sarebbe rimasta nel ritratto e lui non sarebbe mai morto del tutto perché doveva continuare a essere presente nel mondo mio padre provò orrore a queste parole gli parvero talmente strane e terribili che gettò via tavolozza e pennelli e si precipitò l'impazzata fuori della stanza il pensiero di ciò che era accaduto lo agitò per tutta la giornata e per tutta la notte il mattino dopo ricevette da parte dell'usuraio il ritratto portatogli da una donna l'unica persona al suo servizio la quale dichiarò che il padrone non voleva più il ritratto non gli avrebbe pagato nulla e glielo mandava indietro tutto questo gli sembra molto strano e a quel momento il carattere di mio padre cominciò a cambiare sentivo un'inquietudine un'ansia di cui non sapeva capire la causa e ben presto commise un atto che nessuno si sarebbe mai aspettato da lui da un certo tempo i lavori di un suo allievo avevano cominciato ad attrarre l'attenzione di una piccola cerchia di conoscitori e amatori mio padre aveva sempre visto in lui del talento e per questo l'aveva seguito con particolare simpatia improvvisamente provò per lui invidia la simpatia di tutti per quel giovane il bene che se ne diceva gli diventarono insopportabili infine a compimento del suo disappunto venne a sapere che al suo allievo era stato proposto di dipingere un quadro per una ricca chiesa di nuova costruzione questo lo fece esplodere no non lascerò che quel poppante trionfi disse troppo presto si è messo in testa di gettare i vecchi nel fango ho ancora forza grazie a dio vedremo chi cascherà prima nel fango e quel buomo retto d'animo onesto ricorse a intrighi e manovre di cui fino allora aveva sempre avuto ripugnanza ottenne infine che per il quadro fosse bandito un concorso e vi potessero partecipare anche altri artisti con i loro lavori dopodiché si chiuse nella sua stanza e si impegnò con ardore nella pittura pareva che volesse mettervi tutte le sue forze tutto se stesso ed effettivamente ne uscì una delle sue opere migliori nessuno dubitava che il primato aspettasse a lui vennero presentati tutti i quadri e tutti sembrarono come la notte rispetto al giorno in confronto al suo quando ad un tratto uno dei giudici presenti se non sbaglio un religioso fece un'osservazione che stupì i presenti effettivamente in questo quadro c'è molto talento disse ma non c'è santità nei volti al contrario c'è persino qualcosa di demoniaco negli occhi come se un sentimento impuro avesse guidato la mano dell'artista tutti guardarono e non poterono non persuadersi della verità di queste parole mio padre si precipitò avanti verso il suo quadro come per difenderlo da un'osservazione così offensiva ma vide con orrore che a quasi tutte le figure aveva dato gli occhi dell'usuraio e si guardavano in modo così diabolicamente distruttivo che lui stesso tremò il quadro venne respinto e con sua indescrivibile stizza vide che la preferenza veniva data al suo allievo non è possibile dire il furore in pre dal quale fece ritorno a casa per poco non percosse mia madre cacciò via i figli spezzò pennelli e tavolozza chiese un coltello afferrò dalla parete il ritratto dell'usuraio e ordinò di accendere il fuoco nel camino con l'intenzione di bruciarlo così lo trovò un amico entrato in quel momento nella stanza anche lui pittore buontempone sempre contento di sé che non si poneva mai mete irrealizzabili che faceva allegramente qualunque cosa e ancor più allegramente si dedicava a pranzi e banchetti che fai cosa vuoi bruciare disse e si avvicinò al ritratto caspita ma questa è una delle tue opere migliori è quell'usuraio morto da poco mi sembra molto bello perfetto direi non solo l'hai fatto identico ma gli sei entrato negli occhi quegli occhi in vita non hanno mai guardato così come guardano adesso ora starò a vedere come guarderanno quando sarà dentro il fuoco disse mio padre facendo il gesto di scaraventare il ritratto nel caminetto fermati per amor di dio disse l'amico trattenendolo dallo piuttosto a me se ti offendi a tal punto alla vista da prima mio padre si oppose ma infine consentì e il bontempone felicissimo del suo acquisto si portò il ritratto a casa appena se ne fu andato di colpo mio padre si sentì più tranquillo come se insieme al ritratto vi fosse caduto un peso dall'anima si stupì allora dai suoi bassi sentimenti della sua invidia e del palese mutamento del suo carattere esaminato il proprio modo di agire fu preso dalla tristezza e non senza un'intima afflizione disse è stato dio a punirmi il mio quadro ha subito un'onta meritata l'avevo ideato per danneggiare un fratello è stato il sentimento infernale dell'invidia a guidare il mio pennello ed era giusto che un sentimento infernale si riflettesse nel quadro si recò immediatamente dal suo allievo lo abbracciò con forza gli chiese perdono e cercò in ogni modo di cancellare la sua colpa davanti a lui ricominciò a lavorare tranquillamente ma il suo viso diventava sempre più pensieroso pregava di più era più spesso taciturno e non si esprimeva più così bruscamente sulle persone la stessa apparenza rozza del suo carattere in un certo senso si raddolcì ben presto una circostanza lo scosse ancora di più da tempo non vedeva il collega che gli aveva chiesto il ritratto un giorno mentre si accingeva ad andarlo a trovare d'improvviso questi entrò nella sua stanza dopo alcuni preamboli l'amico disse bene mio caro avevi ragione di voler bruciare il ritratto il diavolo lo porti a qualcosa di strano io non credo alle streghe ma dimmi quello che ti pare in esso c'è una forza impura come disse mio padre già da quando l'ho appeso in casa ho cominciato a sentire una tale oppressione come se avessi voglia di ammazzare qualcuno in vita mia non ho mai conosciuto che cosa fosse l'insonnia e invece non solo soffro di questo male ma faccio certi sogni non saprei dire nemmeno se si tratti di sogni è come se un folletto venisse a strangolarmi e poi ho sempre la visione di quel maledetto vecchio insomma mi è difficile descriverti cosa provo non mi era mai successo nulla di simile per tutti questi giorni ho vagato come un pazzo sentivo una specie di paura quasi mi aspettassi qualcosa di sgradevole sentivo che non potevo dire a nessuno una parola allegra e sincera come se avessi sempre accanto qualcuno una spia solo da quando ho dato il ritratto a un nipote che me l'ha chiesto è sembrato che mi cadesse una pietra dalle spalle tutto a un tratto mi sono sentito allegro come puoi vedere già mio caro hai fatto un diavolo durante questo racconto mio padre lo ascoltò con una attenzione che nulla poteva distrarre e infine domandò e il ritratto adesso è da tuo nipote ma che dal nipote non ha resistito disse il buon tempone si vede che ci sia proprio trasferita dentro l'anima dell'usuraio salta fuori dalla cornice passeggia per la stanza e quel che mi ha raccontato mio nipote è semplicemente inconcepibile l'avrei preso per matto se in parte non avessi provato anch'io le stesse sensazioni l'ha ceduto ad un collezionista di quadri ma nemmeno quello ha resistito e l'ha venduto questo racconto produsse una forte impressione su mio padre si impensierì seriamente cadde in uno stato di ipocondria e infine si convinse definitivamente che il suo pennello fosse servito da strumento del diavolo che una parte della vita dell'usuraio fosse passata in qualche modo nel ritratto e turbasse adesso la gente suscitando impulsi diabolici facendo deviare gli artisti dalla loro strada suscitando i terribili tormenti dell'invidia e così via tra disgrazie sopra avvenute la morte improvvisa della moglie della figlia ed un figlio piccolo furono da lui considerate un castigo celeste ed egli decise di abbandonare il mondo non appena compii i nove anni mi collocò presso l'accademia delle arti e fatto si pagare da tutti i debitori si ritirò in un ermo lontano dove ben presto si fece monaco là con il rigore della sua vita con l'incessante osservanza di tutte le regole monastiche stupì tutta la confraternita il priore del monastero avendo saputo dell'arte del suo pennello gli chiese di dipingere l'immagine grande della chiesa ma l'umile fratello disse categoricamente che non era degno di prendere in mano il pennello perché esso era contaminato che doveva purificare la propria anima con la fatica e le privazioni prima di essere degno di accindersi a un'opera simile per quanto poteva aggravava il rigore della vita monastica ma alla fine neanche questo gli bastò neanche questa condizione gli sembrò abbastanza severa e con la benedizione del priore si ritirò nel deserto per vivervi completamente solo là si costruì una rozza capanna si nutrì soltanto di radici crude trascinò pietre da un luogo all'altro rimase immobile nello stesso posto dal sorgere del sole al tramonto con le mani protese verso il cielo pregò senza tregua per farla breve ricercò le prove più dure quell'irraggiungibile rinuncia a se stesso i cui esempi si possono trovare solo nelle vite dei santi mortificò a lungo durante molti anni il proprio corpo temprandolo nello stesso tempo con la forza vivificante della preghiera infine in un giorno ritornò l'eremo e disse con fermezza al priore adesso sono pronto se a dio piace eseguirò il mio lavoro il tema che scelse era la natività di gesù vi lavorò un anno senza uscire dalla sua cella nutriendosi di parco cibo pregando di continuo allo scadere di dodici mesi il quadro era pronto era un miracolo del pennello è bene sapere che né i confratelli né il priore avevano grandi cognizioni di pittura eppure tutti furono sbalorditi dall'eccezionale santità delle figure il sentimento di divina amitezza e umiltà sul viso della madre purissima china sul neonato una profonda pensosità negli occhi del divino fanciullo che parevano penetrare nel futuro il solenne silenzio dei re magi colpiti dal divino miracolo e prosternati ai suoi piedi e infine la sacra ineffabile calma di cui era soffuso l'intero quadro tutto questo apparve con tanta armoniosa forza e potente bellezza che l'impressione fu magica l'intera comunità cadde in ginocchio di fronte alla nuova immagine e il priore commosso disse un uomo con l'aiuto della sola arte umana non può creare un quadro simile una santa forza superiore ha guidato il tuo pennello e la benedizione del cielo riposa nella tua fatica in quel tempo io terminai gli studi all'accademia ottenni la medaglia d'oro e insieme con essa la gioiosa speranza di un viaggio in italia il sogno più bello per un artista ventenne mi restava soltanto da congedarmi da mio padre dal quale ero separato ormai da dodici anni avevo molto sentito dire della santità della sua vita e mi immaginavo di trovare un'anacoretta in carta pregorito estraneo ad ogni cosa del mondo eccetto la sua cella e la preghiera macerato inaridito dai digiuni e dalle veglie come mi meravigliai invece quando vidi davanti a me un vecchio meraviglioso quasi divino sul suo volto non si scorgeva traccia di privazioni esso scintillava della luce della beatitudine celeste la barba bianca come la neve e i capelli sottili quasi aerei dello stesso colore argenteo si spandevano in modo pittoresco sul petto e sulle pieghe della tonaca nera e cadevano fino alla cintura che cingeva il suo povero abito monastico ma più sorprendente di tutto fu per me sentire dalle sue labbra parole e pensieri sull'arte che vi assicuro custodirò a lungo nell'anima con il sincero desiderio che ogni mio collega faccia lo stesso ti aspettavo figlio mio dissegli quando mi accostai per averne la benedizione ti attende il cammino per il quale d'ora innanzi procederà la tua vita il tuo cammino è pulito non deviare da esso tu hai talento il talento è un dono prezioso di dio non ucciderlo esplora studia ogni cosa assoggetta al pennello tutto ciò che vedi ma in tutto sappi trovare l'idea interiore e in primo luogo sforzati di comprendere il grande mistero della creazione beato l'eletto che lo possiede per lui non vè soggetto spresevole nella natura nell'insignificante l'artista creatore è grande come nell'eccesso la cosa più bassa per lui non è bassa perché invisibilmente trapela in essa l'anima meravigliosa di chi crea e la cosa bassa viene così sublimemente espressa perché passa attraverso il purgatorio della sua anima nell'arte è racchiusa un'allusione al divino al paradiso celeste e già per questo essa è più alta ad ogni altra cosa e quanto la quiete solenne è più alta ad ogni agitazione mondana la creazione della distruzione l'angelo con la sola pura innocenza della sua anima luminosa di tutte le innumerevoli forze e orgogliose passioni di satana tanto una sublime creazione dell'arte è più alta ad ogni altra cosa che esista al mondo sacrifichale tutto e amala con passione non con la passione che alita terrestre con cupiscenza ma con la quieta passione celeste senza di essa l'uomo non ha potere di sollevarsi da terra e non può emettere i mirabili suoni che danno la pace poiché per acquietare e per pacificare che scende nel mondo la sublime opera d'arte essa non spinge l'anima all'insoddisfazione ma con risonante perghiera eternamente attende a dio ma vi sono momenti oscuri momenti e qui si fermò e io vi dido un tratto rabbugliarsi il suo volto luminoso come se vi fosse passata una nube subitanea c'è stato un avvenimento nella mia vita non riesco a capire ancora oggi chi fosse quella strana figura di cui dipinsi un giorno il ritratto ma certo era qualcosa di diabolico lo so il mondo nega l'esistenza del diavolo e perciò non parlerò di questo dirò soltanto che dipinsi quel ritratto con ripulsione che non provai durante quel tempo nessun amore per la mia opera pure voglio vincermi con la violenza e soffocare tutto essere passivamente fedele al vero ma quello non fu una creazione d'arte e perciò i sentimenti di chiunque la guardi sono sentimenti di rivolta sentimenti di angoscia non i sentimenti che genera un artista perché un artista anche nell'angoscia esprime tranquillità mi hanno detto che quel ritratto passa di mano in mano suscitando impressioni funeste generando nell'artista il sentimento dell'invidia un cupo odio verso il fratello la malvagia bramosia di attuare persecuzioni e oppressioni ti proteggo all'altissimo da queste passioni non c'è niente di più terribile meglio sopportare l'amarezza di tutte le persecuzioni che infliggerne ad altri anche una sola salva la purezza della tua anima chi racchiude in sé del talento deve avere l'anima pura più di ogni altro ad ogni altro molto si perdona ma lui non si perdonerà a chi è uscito di casa con un chiaro abito festivo basta una sola macchia di fango schizzata da una ruota perché tutta la gente lo ricordi e lo segni a dito e parli della sua sporcizia mentre la stessa gente non nota le molte macchie sugli altri passanti vestiti di abiti quotidiani perché sugli abiti di tutti i giorni non si notano le macchie mi benedisse e mi abbracciò la mia vita nella mia vita non mi era mai sentito trasportato così in alto con venerazione più ancora che con sentimento filiale mi strinsi al suo petto e lo baciai sui fluenti capelli d'argento una lacrima brillò nei suoi occhi esaudisci figlio mio una mia preghiera mi disse quando ormai ci congedavamo forse ti accadrà di vedere in qualche posto il retratto di cui ti ho parlato lo riconoscerai subito dagli occhi insoliti e dalla loro espressione innaturale distruggilo ad ogni costo potete voi stesso giudicare se avrai potuto non promettere non giurare di esaudire quella preghiera per 15 anni non mi è mai capitato di trovare nulla che in qualche modo assomigliasse alla descrizione fattami da mio padre quando ad un tratto adesso a quell'asta l'artista senza terminare la frase rivolse gli occhi alla parete per guardare ancora una volta il ritratto lo stesso movimento fece istantaneamente la folla degli ascoltatori cercando con gli occhi l'insolito ritratto ma con la massima meraviglia di tutti esso non era più sulla parete un parrottio indistinto e un brusio corsero per tutta la folla e subito dopo si udì chiaramente la parola rubato qualcuno era riuscito a portarlo via a lungo i presenti restarono perplessi non sapendo se avessero effettivamente visto quegli occhi terribili o se non si fosse trattato di una visione balenata in un istante ai loro sguardi affaticati grazie 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 grazie